Ciao, sono Marco, sai, compila il nome qua, parliamo di coding qui, del free Python ogni di Javascript, lo sai, ti fa volare, entra nella chat con me, impari divertiti, compila quindi qua, su Twitch c'è una magia, la programmazione sarà la più facile, oh sì, debuca i tuoi errori, stringhe variabili, ogni linguaggio ha storie che noi raccontiamo qui, le morche e le librerie, nel codice si vive, ogni stream una scoperta, compila quindi va, via insieme a noi, i bit che volano, compilando un mondo nuovo, dove tutto è possibile. Ciao, sono Marco, sai, compila il nome qua, parliamo di coding qui, del free Python ogni di Javascript, lo sai, ti fa volare, entra nella chat con me, impari divertiti, compila quindi va, compila quindi va, su Twitch c'è una magia, la programmazione sarà la più facile, oh sì, debuca i tuoi errori, su Twitch c'è una magia, la programmazione sarà la più facile, oh sì, debuca i tuoi errori, stringhe variabili, ogni linguaggio ha storie che noi raccontiamo qui, le morche e le librerie, nel codice si vive, ogni stream una scoperta, compila quindi va, via insieme a noi, i bit che volano, compilando un mondo nuovo, dove tutto è possibile, tutto è possibile, tutto è possibile, tutto è possibile, di me, debuca i tuoi errori, stringhe variabili, ogni linguaggio ha storie che noi raccontiamo qui, fremo anche le librerie, che nel codice si vive, ogni stream una scoperta, compila quindi va, grida insieme a noi, i bit che volano, compilando un mondo nuovo, dove tutto è possibile, compila quindi va, su Twitch c'è una magia, compila quindi va, dove tutto è possibile. Ah no, non si, ero mutato, ero mutato come nel, come nella migliore delle tradizioni, delle, delle call da ufficio, sei mutato, tra l'altro c'avevo anche le carte, c'avevo un mazzo di carte che avevo comprato con le figurine sopra con scritto sei mutato, vado al bagno, c'era, una di queste volte le recupero anche perché servono, servono continuamente, mi sono, mi sono rosso, mi sono, mi sono fatto la barba come, come quelli del far west, con la lama. Gioao filo 1992 ha appena iniziato a seguirti. Gioao figo, molto figo, ciao ben arrivato, ti è ben arrivato dovrebbe essere giusto, non sono mai abituato agli alert perché sono, sono un po' grandicelli però ci sta con le, con le scene di Silicon Valley che ricordo sempre se l'avete mai visto è, è una serie da vedere soprattutto per chi fa lo sviluppatore perché ci sono delle perle, si perde un po' nelle ultime stagioni però poi diventa un po' ripetitivo forse come, come formula. Ma nelle prime diciamo, ma qualche, qualche perle c'è diffusa però le prime due o tre secondo me sono, sono veramente un continuo di, di perle, di cose che solo gli sviluppatori possono, possono apprezzare. Credevo di aver ridotto un po' questo, questo bot, di averlo un attimo rilassato, vedo che spamma più di prima, ho messo tanto tempo, tante linee, ma niente, si vede che, vabbè, spammerà, adesso banno il mio stesso bot dalla chat di Twitch così, me lo tolgo dalle scatole. È ripartita la musichetta, è alta, forse è un po' alta, adesso la riduco un po' perché tanto deve fare un po' da, da sottofondo, da sottofondo, con, mettiamo un drink, ci prendiamo un drink, e facciamo, sempre questo, questo gatto qui che mi arriva nei, nei denti. L'originale è andato a letto, quindi senza, senza l'elmo spartano. Come va? Tutto bene? Non so chi c'è in chat, quanta gente c'è, ma... Non so se non ci sono partite stasera, perché non seguendo il calcio non lo so, eh. Quindi io ho ripristinato un attimo il martedì, il giovedì della settimana scorsa, era per via di tutti gli impegni, ho detto, vabbè, dai, giovedì, facciamoci la liveettina. Poi adesso riprendo, riprendo la serata, anche se tra un po' è Natale, quindi devo mettergli addobbi anche qua sul canale, qualche alberello qua dietro. Tanto per la casa sono a posto, ce l'ho già fatto, praticamente ho una borsina dove tiro fuori albero di Natale in miniatura, monoblocco, con tutte luci e bocce integrate, a prova di gatto. Alto un mezzo metro, forse anche meno, lo metti lì, lo appoggi sul tavolino, quando è l'epifania è il 7 di gennaio, lo tiri via e via. Tutti a posto, tutti belli, felici e contenti, poco sforzo e vabbè. Sono pigro, è per quello che faccio sviluppatore, per cui... No, stasera niente conferenze, basta, le conferenze sono finite per quest'anno, per fortuna, per cui... Quanto ti invidio? Ah, qui c'è qualcuno che dovrà fare, o con i figli o con qualcuno, ho un qualche albero più grosso. Ci sono comparse delle icone che non ricordavo di avere. Sto stranamente a risoluzione... Ah, forse ho gli occhiali nuovi, perché ho degli occhiali apposta da PC, perché da lontano non ci vedo, però adesso da vicino faccio un po' fatica, solo che quelli per il lontano non mi aiutano da vicino, mi danno una mano, ma non così tanto e quindi sono... E' quella mezza via dove così non vedi un accidente di andare vicino da lontano, ma vabbè... Mi sono fatto... Però fanno un po' meno riflesso, eh, questi... Si vede un po' lo schermo, ma perché gli altri di solito facevano questo effetto totalmente... Sembrava come i cartoni animati giapponesi quando c'hanno la luce che... Nei manga che c'hanno la luce degli occhiali che passa con il riflesso, soprattutto quando sono gente poco raccomandabile e fa questo effetto. Vabbè, a parte le cazzate per dire il termine tecnico, L'argomento di questa sera... Oddio, spero di essermi ricordato di averlo inserito... Sì, l'ho inserito bene, ok, perché rischiamo di avere il titolo della live precedente, ma di solito mi sono fatto una checklistina per ricordarmi le cose che devo fare prima di andare in live, tipo vai a fare la pipì, fai tutte le cose, bevi... Eh, per esempio non ho bevuto, vabbè, quindi niente, metterò la pausa a metà live... No, dicevo, l'argomento della serata era vedere un po' quel... Il titolo della live era totalmente clickbait, infatti si sono scatenati su un paio di social dei thread... Vabbè, ero stato un po', forse un po' esagerato a dire addio javascript perché era un po' eccessivo effettivamente, però l'intento era quello di dare un'occhiata più da vicino a htmx, Io in realtà l'ho visto già in qualche conferenza, in diverse salse... Vabbè, una volta avevo una sessione parallela, quindi non ce l'ho fatta, però ne ho sentito parlare, l'ho visto sempre associato a qualche altro framework, quindi a livello individuale non ne ho avuto occasione, anche se ho dato un'occhiata al sito, quindi qualcosina... Qualcosina la so, ma diciamo che non l'ho mai utilizzato in produzione effettiva, ho usato il PineJS, ho usato... uso view, uso altri framework, però htmx non specifico no, e quindi poteva essere interessante dargli un'occhiata più da vicino, quindi proprio in diretta... Non devo gesticolare perché sennò trema tutta la cam e tutta la scrivania, che è un po' pericolante. Quindi poteva essere una cosa interessante per vedere come funziona e di cosa si tratta, perché io inizialmente ero un po' scettico, ammetto, su htmx in sé e sulle prorogative, perché come ho scritto da qualche parte, per dire anche un po' Tailwind, non è che mi piaccia tantissimo, cioè per me l'html ha molto il valore di una struttura, cioè del suo ruolo di struttura della pagina, e quindi ogni cosa che lo va allungare e a prolungare, perché metti attributi, classi, inizia a mettere un sacco di roba, ad esempio nel caso di Tailwind è vero che poi è molto adatto, cioè si usa quei componenti, quindi però non mi piace fare un wrapper di ogni elemento che ti è mal esistente solo per mettergli delle classi con uno stile, una visualizzazione, di solito uso apply. Ecco, già quella caterva di classi che Tailwind ti richiede, oppure certi attributi che determinano soprattutto una cosa che è legata al comportamento, è un'idea che non mi piace tantissimo in linea generale, però avendolo rivisto di recente in un altro contesto, perché vabbè sono usciti diverse, tra l'altro uno magari probabilmente lo useremo dei motori di template, dell'ambiente di sviluppo e linguaggio che uso eccetera, c'è, diciamo che htmx è un buon companion tool, quindi ci si accoppia abbastanza bene, e avendo visto qualche esempio di codice mi è sembrato intuitivo e quindi, come dire, ha iniziato un pochino a piacermi dal punto di vista che forse è una cosa che varrebbe la pena un attimo vedere. Sì, come diceva, mi sembra, su LinkedIn, Fabio Biondi, che giustamente parla di front-end, assolutamente un'autorità, potremmo considerarlo un po' un jQuery moderno, attizzato, lo stesso vale in realtà per AlpineJS, nel senso che le cose che si fanno, ecco, se devo mettere in piedi un'applicazione complessa, iniziare a pensare al routing, e iniziare a pensare a un qualcosa che avrà una sua espansione, mettiamola tra virgolette, un po' ampia, sicuramente valuterei un pochino l'adozione di qualche framework un po' più blasonato, di node, di npm, cioè il mettere in piedi un progetto. D'altro canto, spesso, ciao Marco, ciao Monimo, d'altro canto, spesso c'è il contraltare che, se non sono in quel contesto, e soprattutto magari voglio anche appoggiarmi un po' di più al server, perché il server è sempre demonizzato. Una volta era, come dire, la risorsa numero uno, PHP, WordPress, poi si è passato tutto client, il server fa solo dati, poi c'è scoperto che quel ritardino che c'è nel aggiornare la pagina, ciao Muzio, aggiornare la pagina e nel momento in cui si ricevono i dati, fai una sorta di binding, insomma, rappresenti quello che ti arriva dal server, non è indicizzabile perché la pagina è vuota. Il client, per quanto veloce deve fare quel lavoro, c'è un momento di, come dire, di lag, ecco, usiamo un termine da gamer, visto che su Twitch va anche di moda, non è proprio ottimale, quindi poi si è iniziato a misurare il first byte, Google ci ha un po' traviato con i suoi benchmark, dove si cerca di avere 100, 100, 100, adesso si è passato a tutto statico, comunque, script, e con questa esigenza si è detto, ok, facciamo, siccome usiamo Node, ma non tutti usiamo Node, e usiamo NPM, ma non tutti usiamo NPM, facciamo dei framework dove il framework lavora lato client, ma di genere lato server, la prima pagina, quindi abbiamo spostato le cose un po' di qua e un po' di là. Con tutti questi framework, tutti questi approcci, che tra l'altro necessitano di un server, poi che supporti quella tecnologia, io ho fatto un'applicazione con Vue, l'ho messo in un server che è statico, quindi io il server 6 rendering non lo posso sfruttare, c'è stata questa commistione tra questi vari scenari, i vari framework, a meno che non c'è un reparto frontendista, bello spianato, tutti belli carichi, come direbbe un collega che, saluto, gli girerò la clip, è un mostazzone, un mostazzone, un espertazzone, ci sono i due termini che non mi ricordo mai cosa vogliono dire, nel senso che hanno le accezioni diverse, ma diciamo c'è qualcuno veramente bravo, con i frontend, diventa, come dire, abbastanza complicato, diciamo complesso, complicato no, ma complesso, nel senso che devi sapere bene come funzionano, gestire delle applicazioni di questo tipo. Poi i package si aggiornano, i package usano le dipendenze esterne, il package JSON si fa l'upgrade, ma dell'altro non è uscita la versione più recente, e nuxt, naxt, nixt, cioè devi diventare esperto di node, di javascript, o di typescript, ancora meglio o ancora peggio, a seconda di come la si vede, meglio perché chiaramente in certi casi ti aiuta, anche se in altri casi ultimamente ho avuto un paio di prospettive dove non è che mi ha dato quel gran valore aggiunto, poi magari vado off topic, quindi non... insomma, lì ci vuole qualcuno che, insomma, di frontend e ne sappia, quando a volte la cosa che devo mettere è una griglia che fa vedere dei dati, fare una cancellazione, fare due paginette, anche una dashboard, una cosa anche che magari non ha del routing complesso, ma la complessità chiaramente è inferiore e non richiede di strutturare un progetto di quel tipo che solo vuoto, comunque in una cartella ti tiene 200-260 MB, a seconda del framework che si sceglie. Anche il javascript, chiaramente, viene scelto in base a quello che viene utilizzato, ma di base, per poter sostenere l'angola, il React, il view di turno, svelte, qui che vale un po' per tutto, è abbastanza pesante, quindi parliamo già di scaricare qualcosa di voluminoso, magari per partire con... Quindi qual è l'approccio di... Quindi, diciamo, l'approccio di HTMX, un po' come quello di Alpine, faremo simili, e dire, ok, non torniamo a jQuery, cioè non facciamo una cosa imperativa, non torniamo ad Angular, che è Angular vecchio, è AngularJS, che magari era diventato un pochino complesso, però per queste esigenze, tu volendo, ti puoi importare questo script, hai quei 10-12 metodi comandi, al tuo... Tra l'altro, Alpine è ancora comunque legato al binding e all'estensione di HTML in quanto motore di template, mentre HTMX ragioni in un modo un pochino diverso, ovvero, è più orientato a dire... Io... La filosofia, che poi è quella che io ho compreso, è un'idea che in realtà mi sono fatto io, però vedendo, però mi parlo di aver capito che avrebbero, o hanno ancora, magari, il desiderio di standardizzarla, l'idea che mi sono fatto io è questa. Nel passaggio da HTML4 del 99... Ciao, BigBigFra... Mi piace questo nick, BigBigFra... Ehm, BigBigFra... Vabbè, niente. Non posso neanche dire che è lunedì, perché, vabbè, è martedì, ma è martedì e il giorno dopo lunedì, quindi sono un po' tarato. No, l'idea è quella di dire HTML4 del 99, se lo pensiamo rapportato a HTML5, cosa è stato introdotto? Tutte quelle parti di validazione, nuovi controlli di input, cioè fondamentalmente è stato messo nell'HTML, ciò che gli sviluppatori hanno sempre scritto in JavaScript, facciamo la validazione con una regax, prima di HTML5, come la facevi? Ti facevi il tuo JavaScript, e se non validazione media, esatto, se la facevi con JavaScript, ti dovevi andare a vedere la casella, c'è la stringa, ma è vuota, faccio il trim, e se trovo uno o più errori, cosa faccio? Metto un'icona lì vicino, faccio un alert, quindi ogni sito poi usava il suo metodo, e anche la sua grafica, quindi fondamentalmente, a livello di esperienza utente, era tutta forche buona questa cosa, perché c'è uno spiazzamento, non c'è un'uniformità, non c'è un oltrefatto che c'è da scriptare, come dei malvaggi, per operazioni che, francamente, alla fine sono anche abbastanza semplici, quindi prima del date picker, e ancora oggi si usa, perché poi anche HTML5 che si è diffuso subito, ma a livello di feature pian pianino, tant'è che girava il modernizer, lo script per capire se quel browser o meno, ha supportato una certa feature, e penso che ci sia ancora, perché è sempre una cosa in evoluzione, cioè volevi fare il date time picker, dovevi capire se il browser ce la faceva, a mettere il suo, nativo, e se non ce la faceva, dovevi usare il polyfill, oppure dovevi dire, caro JQuery, o JQuery UI, o quello che uno preferisce, metti qui il tuo calendario, perché il browser non ce la fa, se invece il browser ci riesce, usiamo quello del browser, perché con HTML5, hai anche il calendario, con la data, con tutto il resto, il minimo al massimo, gli slider, era tutta roba che fondamentalmente, si faceva con delle librerie di UI, ed è diventato parte di HTML5, quindi effettivamente, da questo punto filosofico, HTML5, secondo me, potrebbe essere visto come un, ok, rimangono ancora delle cose, che noi facciamo, come dire, tramite script, perché se io ho un form, oppure ho una griglia, cliccando, voglio eliminare un elemento, io non posso, da HTML, fare una delete, cioè, posso fare una get, se uso un link, o se invio un form, via get, e quindi ho i parametri, nel query string, nel browser, oppure posso fare una post, da un form, la delete, se la voglio fare, la devo fare, usando javascript, di nuovo, per cosa lo fai magari, la delete, vuoi eliminare un elemento, e lo vuoi togliere dalla griglia, oppure, lo vuoi aggiornare, su un, vabbè, a parte che le griglie, sul web, è sempre meglio, cioè, c'è la questione mobile, non sono il massimo, dei responsi, ma lo dico giusto per, quantomeno, per metterci in uno scenario, oppure elimino qualcosa, lo voglio eliminare, dalla pagina, oppure, devo, cliccare un pulsante, fa vedere una dialog, quello che, si faceva di solito, soprattutto, lavorando al lato server, dire, genero il markup, magari, nel div, corrispondente, e te lo faccio vedere, cioè, il fatto che, a fronte di un click, tu debba, ottenere, dell'html, e mostrarlo, da qualche parte, cioè, è una cosa, abbastanza frequente, mandare un, metodo http che non sia, get e post, ma che sia, ad esempio, put e delete, è una cosa, abbastanza ricorrente, quindi, l'idea qual è, facciamo fare, ad html, anche, tutte queste cose qui, cioè, aggiungiamo, degli attributi, come se lo standard prevedesse, dove noi facciamo, tramite quell'attributo, uno step in più, ad esempio, a un pulsante, vado a indicare, http put, per dirgli che deve fare una put, invece che una post sul form, e poi gli dico target, e gli do un div, dove deve mettere quello che viene giù, quello che viene giù, cosa sarà, che se mando un form, magari, l'inserimento va a buon fine, l'aggiornamento, in questo caso, visto che è una put, quindi, aggiorno un elemento esistente, mi scarica un box, dove dentro c'è scritto, bravo, hai fatto, eccetera, i dati rimangono sul server, e il giochino è fatto, poi uno potrebbe dirmi, ok, qui, però, torniamo ad essere molto server centrici, quindi, la scalabilità, quindi, la banda consumata, la CPU, il cloud che mi consuma risorse, è vero, questa è una contestazione utile, però, diciamo che, non tutte le applicazioni sono fatte, per essere usate, da 150 mili utenti, e, non mi ricordo, chi lo diceva, chi l'aveva anche provato, su un'applicazione tendenzialmente piccola, mettiamo anche se hanno 15 mili utenti, io, ad esempio, a me capita spesso di fare web application, che sono solo, come dire, web application, da mettere su una, sì, su cloud, ma magari un'azienda, con una quantità di utenti, contemporanei, che non raggiunge mai, un livello del genere, un conto ovviamente, se metto un'app o qualcosa di, che prevedo di diffondere e scalare, ma torniamo al discorso di prima, se io ho delle necessità molto specifiche, avrò un team di sviluppo carenato, esperto, con framework consolidati, e quindi a quel punto, c'è l'avvio di un progetto, cioè ci sono altri tipi di costi, altri tipi di budget, e di, come dire, pianificazione, allocazione, di un progetto di un certo tipo, però magari un'applicazione interna, che uno usa per dire, ho un tablet, lo metto all'ingresso, voglio far registrare gli utenti, gli faccio mettere una firma, cioè non ho bisogno di, scomodare, tutta questa roba qui, e comunque, il lato server, non è sempre, secondo me necessariamente, da demonizzare, in quanto, come dire, cioè anche Amazon, ha nelle pagine, un pochino di interazione, cioè se vado a vedere, le recensioni di un prodotto, e cambio e dico, non mi fa vedere quella città, 5 stelle, e farmi vedere quella da 4, non mi ricarica, tutta la scheda del prodotto, che è enorme, per farmi vedere, quella giornata, e mi refresca, quel pezzettino lì, però mentre navigo, io in alto, ho un link che cambia, la pagina si aggiorna completamente, è un sito, che fondamentalmente, a meno da quello che è la percezione, ma direi che è anche così, lo lasciamo come funziona dietro, però è un generato lato server, cioè non è una, non è una single page application, è un'applicazione totalmente lato server, e non mi sembra che, almeno, vengo smentito domani, che Amazon al momento, abbia problemi di monetizzare, visto che fondamentalmente, è uno degli, degli store mondiali, probabilmente più utilizzati, e anche quelli comunque analoghi, hanno un approccio di, di questo tipo, quindi, cioè non è che non sia, fruibile ecco, un'applicazione lato server, la fissa di dover necessariamente, essere brucianti, sulle prestazioni, anzi, diciamo che con, l'evolversi, il modernizzarsi, anche delle infrastrutture, della banda, comunque, ad oggi, produrre un HTML, pur che non sia un HTML, di una pagina intera, ma se è un frammento, se il server è abbastanza veloce, averlo già direttamente, sul client, anche non sia da renderizzare, cioè, HTMLX, anche questa nomea, che comunque, non è, non è lento, ma è abbastanza, è abbastanza performante, anche se poi, quello che fa, è agire sul DOM, e mettere e togliere delle cose, l'obiettivo, è cercare di, raggruppare tutte le cose, più frequenti, che si fanno, a livello di script, e, esporlo, tramite attributi, in realtà, una cosa del genere, l'avevo fatta in un'applicazione, tanti anni fa, dove usavo ancora jQuery, quindi parliamo di, ma forse 2008, 2009, quindi parliamo di, di parecchi anni fa, e, dove, ogni volta, mi trovo a fare, la get, prendere un div, e metterci un risultato, una get, ajax, con jQuery, allora ho detto, facciamo una roba, facciamo un bello script, che quando la pagina è caricata, gira tutti gli elementi, tutti quelli che hanno una certa classe, riguardi gli attributi, data, trattino, un attributo, dove metto, un link, e un altro attributo, dove gli dico, se deve fare la get, la post, e dove voglio vedere il risultato, così, io con un pezzo di codice unico, vedendo tutti questi link, li avevo tutti trasformati, in link, che avevano una funzionetta diversa, ad esempio, di fare una chiamata, ajax, cioè, fondamentalmente, la scrivi una volta, il codice, e tutto il resto, lo guidi tramite attributi, per cui, in questo HTMX, ci ho trovato qualcosa di, molto molto simile, a questo approccio, ecco, da questo punto di vista, per cui, io farei una robina, di questo tipo, se, la musichetta, non è troppo alta, che non rupe troppo le scatole, ma non dovrebbe, mi sembra abbastanza bassa, forse ce l'ha, l'ha in corso, però, per sicurezza, la tengo bassa, allora, io, andrei sul sitarello, di HTMX, secondo me, la cosa che potrebbe essere interessante, a vedere il sito, e, e provare a fare qualche esperimento, tipo, su un playground, o qualcosa del genere, io mi sono tenuto, un pochino, di link, che adesso recupero, più che altro, per far prima, nel senso che, ho detto, andiamoci a prendere, un pochino di cose, magari, dove l'ho messo, però, non mi ricordo, dove ho messo, quel link, vabbè, tanto lo trovo, poi in un secondo, non è, 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 non è assolutamente, un problema, allora, allora, devo cambiare la schermata, giustamente, allora, andiamo sul, sul, campio screen, andiamo sul, campio screen, facciamoci salutare, dallo, dallo sviluppatore, ciao, vabbè, se mi metta, gli occhiali come vanno messi, perché se no, non è, e, allora, ingrandiamo anche un po', il, il cucuzaro, forse però, nell'example, c'è, questa cosa qui, allora, l'idea, era, provare un attimo in azione, sugli esempi del sito, e poi vedere, che diavolo fa, htme, htmx, 2.0, ring release, non è, marcate com'è, non sono, ok, c'è una versione 2.0, che spero che sia quella che vedo io, però, ok, così, ci leggiamo un po', queste, queste motivazioni, questa roba, e, fondamentalmente, ce lo studiamo assieme, anche perché io, non ci sono mai proprio entrato, totalmente dentro, cioè, l'ho visto in diversi contesti, poi tutte le volte, mi, mi dimenticavo, mi dimenticavo, come dire, dove ero, cosa avevo visto, lo rivedevo, quindi, però non l'ho mai proprio usato, e vorrei dargli proprio una bella, una bella possibilità, allora, introduction, quindi, qui dice, htmx ti dà accesso, cioè, comunque, sarebbe interessante anche sperimentare le cose un pochino, un pochino più particolari, però qui dice, c'è accesso a, vabbè, Ajax, è la cosa che consideravo abbastanza, abbastanza tranquilla, e assodata, perché, ovviamente non poteva essere diversamente, CSS transition, Websocket, che è una cosa interessante, e server sent events, che, qui, ovviamente sarà il link, immagino, esatto, i docs, che sarebbe interessante sperimentare, usando attributi, così puoi costruire, interfacce moderne, con la semplicità, e la potenza di, html, fondamentalmente, ecco, i punti di forza di questo framework, è veramente stra piccolino, è proprio, proprio, ridicolo, ridicolo, dependency free, quindi non è che, come bootstrap, che ci devi mettere già i query, oppure, è stensibile, c'è anche un esempio, in cui, si può, utilizzare come API, per farsi i propri attributi, basandosi su, feature che già ci sono, ad esempio, dei trigger, o queste cose, e riconoscimento di certi eventi, quindi, questo, perché l'ho visto in azione, poi non l'ho visto, qui chiaramente c'è il link, per andarsi a prendere, l'esempio, codebase, è ridotta, del 67%, quando, confrontato con React, ecco, qui, anche qui, chiaro che React, nel DOM è veloce, i frame sono veloci, però, se è un'applicazione piccola, a volte, mi sa che è andato giù qualcosa, una roba aferizzata, non lo so, no, drop the frame a zero, scusate, mi sono interrotto, ma, sembrava che, si fosse stoppato, che ci fosse stato, un ammanco di connessione, perché ho visto tutto rosso, ah, sei tornato, ok, quindi vuol dire che me ne ero andato, perfetto, sono di nuovo qui, e quindi, come dire, a posto, connessione ce l'abbiamo, colpo dell'HTMX, no, perché porterà un po' sfortuna, eh, sì, perché, non bisognerebbe usare il wifi, però, tirare un cavo di rete, non è, non è il massimo, e quindi, bisogna, bisogna un po' accontentarsi, eh, che dicevamo, ok, quindi, la dimensione, dicevo, magari può essere che, il, il peso del framework che si utilizza, sia più pesante, dell'applicazione in sé, quindi, in questo caso, può essere, un'alternativa valida, motivation, perché, HTMX, perché, il, solo, il, l'elemento, iform, devono essere in grado di fare, richieste HTTP, in effetti, se noi prendiamo un pulsante, lo mettiamo, fuori da un form, fondamentalmente, ci agganciamo un click, oppure, quel pulsante non fa nulla, quindi, anche questo, può essere una motivazione valida, perché, solo click, submit, gli eventi, li possono triggerare, ok, potremmo avere il mouse over, potremmo avere delle cose di questo tipo, perché, solo, get e post, devono essere i metodi disponibili in HTTP, questo è quello che dicevamo prima, perché, dovresti, essere, avere solo la possibilità, di rimpiazzare l'intero schermo, quindi, vabbè, in realtà, poi, questo si riferisce alle pagine, server side, perché ci usiamo una single page application, un framework, quindi, togliendo questi constraint, HTMLX completa HTML, a livello di per testo, quindi, aggiunge feature, ma in modo descrittivo, e poi, è tanto malignato, però, non è che poi, tutti gli altri framework che abbiamo usato, ma che in certi casi usiamo ancora, siano poi, particolarmente diversi, uso TypeScript, metto, ad esempio, in view, la parte di setup, dove c'è la funzione, sotto, sull'onclick, l'aggancio, però, fondamentalmente, sto sempre, pilotando della logica, usando l'HTML, come un motore di template, quindi, cioè, comunque, non è che stiamo sempre facendo, cose particolarmente diverse, questo è un esempio funzionante, lo so per certo, perché l'hanno provato, e volendo possiamo provarlo, dove, tu hai una pagina, ti importi lo script, qui, è importato direttamente dalla cdn, ma, ci può stare, oppure, uno se lo può scaricare, e usare in locale, e, con questo pulsante, viene fatto un post, via ajax, vedete che ci sono già, gli attributi, htmx, oddio, forse ho esagerato, con i grandi min, a questo, hx, come prefisso, trattino post, vuol dire, che, cliccando questo pulsante, si fa un post, a questo indirizzo, questo è l'endpoint, a cui viene inviato, un post, al momento, senza, direi, parametri, non ci sono parametri, che gli vengono inviati, questo hx swap, vuol dire, quello che ritorna, che ne facciamo, quindi, intanto, quello che ritorna, è html, deve essere html, quindi, una delle, come dire, un po' delle critiche, che, si facevano, è dire, ma io ho già un API, devo fare un API, quindi, json per il mobile, è una, cioè, addirittura, con generazione, lato server, per htmx, è nì, nel senso, che dipende, da come, è stata fatta, la web API, che framework utilizza, però, per il principio, restful, noi dovremmo, avere sempre, la possibilità, di chiamare, un endpoint, tipo, slash, customers, slash, uno, customer, cliente con id, uno, e dirgli, ok, dammi un json, e ottengo i dati, del cliente, come json, ma se gli chiedo, un jpeg, mi deve dare, la foto, il logo, adesso lì, ovviamente, sto sparando, la mia, raccasistica, se gli chiedo, un html, mi dovrebbe dare, qualcosa di, preformattato, che magari, in html, mi rappresenta il cliente, cioè, regole dell'API, restful, questo smile, è per un dubbio, era per fare un test, tra l'altro, ho attivato, il sound alert, sono dici, per chi usa il browser, o per chi usa, penso anche l'applicazione mobile, andando nella parte, la parte alta, c'è il, mode, maschetta, marchetta, vuol dire, MC framework, che genera htmlx, sì, da DelphiD, abbiamo visto, che anche Whirl, genera htmlx, ma, potenzialmente, da qualunque parte, possiamo, perché, fondamentalmente, generiamo html, cioè, dire, generare htmlx, vuol dire, ti genero qualcosa, che contiene, questi attributi, perché so, che c'è una libreria, che in grado di interpretarli, ma, fondamentalmente, non cambia nulla, rispetto al, ad html, quindi, sì, htmlx, vuol dire, c'è dentro qualcosa, che, se hai la libreria, ovviamente, può funzionare, altrimenti, non, quindi, questo swap, vuol dire, quello che arriva, deve essere html, per cui, io potrei fare un API, che è bivalente, cioè, degli endpoint, che, una volta chiamati, ti danno, le informazioni, con l'html, già generato, server side, solo del pezzettino, che serve, ovviamente, mentre, chiamati, application json, per una, applicazione web, fatta, con i soliti framework, oppure, per un'applicazione mobile, ti danno il json, perché, in quel caso, ho bisogno di dati, non devi fare più applicazioni, ne fai una, che magari è bivalente, e se è anche più restful, mi viene da dire, perché, comunque, il fatto di dire, accetto solo json, e ogni altra cosa, non te la do, e ti do, o sempre json, o ti dico, che quel, quel formato, non è accettabile, è anche un po' limitativo, il bello sarebbe, chiaramente, se io, potessi, e ho visto, qualche implementazione, in Delfi, ma questo, magari, possiamo vederlo, in una puntata bis, ecco, potremmo fare questa cosa, il, la questione, il bello sarebbe, appunto, se io potessi dare, al framework, i dati, e ci pensa, il framework, da solo, guidato da un template, a incapsularli, dentro, diciamo, il suo formato html, oppure, dentro un json, quindi, io dico, render, e do i dati, un oggetto, banalmente, e c'è qualcosa, che lo passa a un template, e fa html, e qualcosa, che invece, lo serializza, e lo istituisce come json, così, io, dalla mia web API, non devo fare nulla, di specifico, da un lato, dall'altro, e magari, aggancio, il rendering, e il template, a seconda, come dire, del, del tipo di richiesta, cioè, di quanto nella richiesta, viene indicato, cioè, se nella richiesta, io chiedo, risorse di un certo tipo, di un altro tipo, lui mi risponde, di conseguenza, e questo swap, vuol dire, l'html che arriva, dove lo mettiamo, quindi, questo, outer html, vuol dire, che, se fosse un inner html, vuol dire, che lo andremo a mettere, dentro il pulsante, outer html, vuol dire, che, prende il pulsante, lo tira via, e ci restitui, e ci mette al suo post, ovviamente, quello che viene giù, quindi, tirano dentro solo lo script, io nel pulsante, normalmente, se fosse senza questi attributi, sarebbe un pulsante, fuori da un form, che se lo clicchi, non fa nulla, con questo, gli fai fare un post, e gli dai l'indirizzo, con questo, gli dici dove va la risposta, e a quel punto, sei, come dire, hai descritto, il tipo di comando, l'endpoint, a cui lo vuoi inviare, e cosa fare, del risultato di ritorno, che, ovviamente, è, come dire, ingaggiato, non si dì, perché mi viene in mente, engagement, non si dice ingaggiato, diciamo, è, come dire, stimolato, ecco, facciamo così, da, via HTML, e quindi, deve essere gestito, sempre, via HTML. HTML, HTML, è successo di intercooler, che non è una parolaccia, in dialetto, che io, notato, non conosco, quindi, faccio anche una cultura, ok, la libreria, ok, IC, post, tu, che probabilmente era un po' più verbosa, però probabilmente faceva, faceva più o meno la stessa cosa, ecco, forse loro, hanno detto, piuttosto che, lavorare su una cosa, che già la chiamiamo libreria, qui, ci sono, tra l'altro hanno rifatto, perché io ho visto un po' degli esempi, HTML, giorni, giorni fa, hanno fatto, un po' degli stessi demo, quindi anche questa libreria, potrebbe essere, interessante, agia con attributi, non c'è bisogno di essere, complicati, a volte, a volte sì, a volte no, dipende, dipende dal contesto, ecco, questo è il, ok, quindi, diciamo che hanno preso, probabilmente l'idea, non era, quella che ho avuto io, non era originale, e altri l'hanno messa a libreria, Docs, per introduzione, adesso andiamo a vedere, e c'è anche questo libro, che ho visto, su HTMLX, che ha preso a, diciamo, a 9 dollari, la versione ebook, potrebbe anche essere un acquisto da fare, potrebbe anche valutare, ad esempio, se mi piaciucchia, qui ho ingrandito molto il font, quindi siamo un po' esagerati, si vede un po' grandicello, quindi HTMLX è una libreria che ti consente di accedere a fito del browser moderne, quindi, insomma, non è che si fanno, fanno le cose semplici, ma mi aspetto anche funzionalità più interessanti, tipo, ok, ti sostituisco il pezzo, ma uso una transizione, applico una classe, un'animazione, cioè, magari qualcosa anche più, compatibile con i browser moderni, quindi, lui dice, questo dice a un browser, che quando clicchi, di fare una get, a questo blog, questo è quello che abbiamo visto, prima, ecco, qui c'è, un'altra cosa, che questo ve lo dico così, perché mi ricordo di, averle sentite, quindi le riporto, perché sono cose che già, so che sono così, senza, ma giusto per tenere la cosa un po' più, interattiva, poi magari gli facciamo un po' di pochi, questo è un esempio un po' più ampio, di quello di prima, c'è il solito post, clicked, ecco, nessuno ad esempio ha detto, nell'esempio di prima, di fare il post sul click, adesso, annetto dell'indirizzo clicked, che è quello che viene chiamato, perché il click, è considerato l'evento di default, che in htmx, sono denominati come trigger, o meglio, il trigger è quello che dà inizio, a quell'evento, che poi viene gestito, nel modo in cui noi gli indichiamo, quindi se, dobbiamo farlo sul click, non abbiamo bisogno di dirgli, farlo sul click, il click è una sorta di default, però, possiamo personalizzare, col trigger, a quale evento reagire, ad esempio mouse up, mouse move, adesso, fare una mouse move, delle chiamate a un server, forse non è la cosa più intelligente da fare, però, come dire, se non abbiamo paura di fare, se sono molto veloce, diventa quasi un attacco, denial of service, quindi no, vabbè, adesso parte tutto, però, ecco, se vogliamo cambiare, poi, c'è l'elenco dei trigger, c'è tutta la documentazione, i trigger, lo possiamo fare, il target, in questo caso, adotta una sintassi, molto CSS like, quindi, per questo, che ovviamente, assomiglia un pochino, a, ricordo, un po' jQuery, però, che poi, jQuery, poverino, sì, chiaramente, ad essere datato, tra l'altro, è uscita una versione, nuova, anche di recente, di jQuery, quindi, questo l'ho, quando l'ho scoperto, ho detto, cavolo, è interessante, come se mi facesse riuscire, non so, la FIA 127, bis, cioè, ad oggi, quindi, però, cioè, interessante, perché, comunque, è una libreria, estremamente diffusa, sul web, al difetto, che è, è demodè, perché, perché è un approccio, imperativo, e noi, sappiamo, per esperienze, che sul web, il dichiarativo, è un po' meglio, ecco, almeno, da manutenere, da capire, perché, nei momenti, in cui, diciamo, reagiamo, facendo qualcosa, dicendo a qualcosa, di fare qualcosa, è meglio, piuttosto, adottare un approccio, del tipo, ok, dico, cosa fare, quando, e ci pensa, il framework di turno, ad aggiornarmi, l'interfaccia, piuttosto, che, essere io, a dovermi, cercare riferimenti, con tutti, i problemi di performance, eccetera, che ci possono essere, quindi, però, diciamo, che qui, li utilizziamo, delle conoscenze, questo target, parent div, vuol dire, se c'è un div, che si chiama così, quello che arriva, outerHTML, come prima, vuol dire che, questo elemento, viene, totalmente sostituito, mentre, se è un inner, probabilmente, quell'interno, però, ad esempio, possiamo dare criteri diversi, tipo, mettilo nell'elemento, fratello, sibling, prima, il dopo, il primo, l'ultimo, cioè, avete anche la possibilità, di, dinamicamente, di scegliere qualcosa, di, indicare, una sorta di percorso, di posizione relativa, rispetto a quello, all'interno del DOM, quindi, che è un po', più o meno, le cose che si fanno, con i CSS, quindi, non, si diceva, in, ho visto su LinkedIn, qualcuno che diceva, si reinventa la ruota, no, non è che si reinventa la ruota, abbiamo la ruota, siccome gira, per portare avanti i carri, ne facciamo una, anche per la macchina, ma, fondamentalmente, sempre la ruota, e non è che andiamo a reinventare, senza nulla, ovviamente, togliere, al framework, che era citato, mi pare, Blazor, così che, giustamente, ha le sue potenzialità, ci mancherebbe, però, ovviamente, devi usare C Sharp, ovunque, a volte, magari, è un software già esistente, fatto con un altro linguaggio, o uso un altro linguaggio, Blazor, bello per bello, però, le alternative sono sempre tante, non è, questo non è, ovviamente, per tutti gli usi, ma almeno per questi, quindi, fa un post, a click, usa il contenuto, del framework, per rimpiazzare l'elemento, con l'id, in loro impiazza, dove c'è scritto, author html, quindi, vabbè, qui è tutta la solita, la stessa sbrodolata, sono, volendo, si possono usare anche, i data prefix, perché sapete che, questi, prefissi, fanno sì che, a parte che browser, te lo ignora comunque, perché browser non va in errore, però, è un rafforzativo, del fatto che questi sono, attributi, al momento, non standard, che lo diventano, poiché c'è, una pagina, uno script, che andandosi a cercare, quando li trova, aggancia dei comportamenti, quindi, noi abbiamo un approccio dichiarativo, ma, se qui metto, ad esempio, v, o metto ng, di angular, cioè, l'approccio, poi fondamentalmente, è sempre quello, ecco, qui è più, comportamentale, che non legato, all'utilizzare, l'html, come template, quindi, per certi versi, forse è più html questo, che non, un template, del vecchio angularjs, o un template alpine, perché, qui non andiamo a dire, qual è l'html, da, plasmare, per, come dire, per ottenere, l'html finale, quindi, andiamo a mettere, gli attributi, per, suscitare dei comportamenti, per indicare, i comportamenti, dei luoghi, il server, che comunque, si, premunisce, e si, prende, in questo caso, cura di, produrre, il markup, che serve, da sostituire, o da mettere, da qualche parte, quindi, qui, è in, in appoggio, al server, la versione 1, supporta, addirittura, internet explorer 11, quindi, che ormai, sembra, roba, superata, perché c'è, c'è Edge, che poi dopo è stato riscritto, col motore di Chrome, tanto, oggi, è tutto Chrome, e quindi, la migration guide, per versioni diverse, ok, io, farei una roba di questo tipo, guarderei gli esempi, però, avevo trovato, forse, ho avuto le allucinazioni, no, perché c'è una ricerca Google, una specie di playground, che non mi ricordo, no, non è questo, che mi sembra fin troppo complicato, ok, perché c'è anche, una parte, lato server, magari, che può tornarci utile, adesso, poi, mi metto, è un HTMX playground, quindi, è fatto apposta, per, sperimentare, e qui c'è, poi c'è anche, questo network viewer, che vi fa vedere, le interazioni, che avvengono, è una sorta di console, è la scheda network, delle, dei developer tools, dentro il browser, quindi, è molto comodo, fa vedere, quello che, viene spedito, è ricevuto, qui, siamo nel server, perché abbiamo, un server JS, quindi, questo è per, come dire, partire secchi, secchi e duri, come direbbero, con un server, già pronto, che, fa rendering, di un HTML, passandogli, questo context, quindi, qui non so, se hanno usato, già un framework, di qualche tipo, on post, probabilmente, hanno imbastito, qualcosa, dietro le quinte, con degli eventi, in modo da restituire, come dire, dei file, vediamo cosa c'è, nell'index HTML, ok, qui secondo me, usa, non lo so, però c'è, c'è comunque, come dire, sorgente, perché siamo, c'è, c'è, il riferimento al progetto Github, quindi, siamo, load, playground, ah, potrei dargli un url, di qualcosa da copiare, c'è, redmi, go to playground, code, Isabella, e buono Github, era giusto per capire, sicuramente l'hanno fatto, con un nodo, qualcosa, dietro le quinte, usate, svelte, ok, per fare questa roba, cercavo di capire, forse nel package, non riesco a capire, che cosa c'è, dietro le quinte, c'è un bit, no, un svelte, plug-in, è tutto, è tutto in locale, fondamentalmente, mi sa, cioè in locale, sul server, sembra, dove siamo adesso, quando era il prima, adesso, può essere stateful, ok, c'è solo un po' di, diciamo, una cosa pronta all'uso, per farci un pochino di, esperimenti, chiudimi, ah ok, pensavo facessi un go to, e allora, netto che, ad esempio, questo water, spero, penso che sia per dare, come dire, uno stile, banalmente alla pagina, probabilmente, farvi vedere, controlliamo un po', tutte le cose che non voglio, root, button, ok, formatazione, qui fondamentalmente, non c'è nient'altro, button HTML, HTML, ok, questo è un template, che è incluso qui, quindi, non so che linguaggio, hanno usato, forse, però, vabbè, comunque, c'è un view engine, abbastanza semplice, da questo punto di vista, qui, ha incorporato, questo pezzettino qui, reload, with control B, ok, dove, quindi, quello che vediamo qui, è fondamentalmente, un button, nulla di più, nulla di meno, appare così, perché, c'è quel foglio di stile, che, importato, gli dà, come dire, l'aspetto scuro, se ci vado sopra, fa questo tipo di lavoro, quindi, questo vorrebbe una pizza in bitcoin, ok, magari la mandiamo, e, qui c'è un text, ok, quindi c'è un rendering, che viene, come dire, portato nel contesto, nel rendering della pagina, viene passato questo oggetto, con il text, quindi, quello che viene messo come text, viene scaricato, e tutto poi, nel server.js, direi, quindi, qui vediamo cosa c'è, è un serverino, dove, questa roba qui, ah, ci sono altri file, ok, no, questi non mi interessano, cosa abbiamo, abbiamo una serie di, generi di, di musica, quindi, lui dice, sulla get, a slash, nel context, va a mettere questo testo, click for a random music genre, quindi, qui probabilmente parte con, con quel template, ok, e fa il rendering, quindi fa il rendering, di questa vista, che porta dentro, include button.html, e io qui me lo vedo, ok, poi, c'è, on post, quindi, se faccio un post, a questo endpoint, quello che mi vado a vedere, è il, ottengo una request, lui, ok, va a prendersi un genere a caso, prendendo la length, quindi, si prende un genere casuale, lo mette nel testo, e fa la render, in questo caso, del solo button.html, ok, ok, quindi, come dire, il contesto è abbastanza, il contesto è abbastanza chiaro, vorrei andarmi a prendere da bere, che mi scordo sempre di, di pigliarmi, di pigliarmi da bere, allora, il contesto è abbastanza chiaro, quindi, quello che noi vediamo qui, è la index.html, che fa l'include, di questo button.html, che è un pezzo di.html, quindi, viene incorporato qui, e tutta la pagina viene restituita, al netto di questo, che è sullo stile, l'altro script importato, è quello di htmx.org, quindi, non ci sono altre cose, poi qui c'è il codice, si, reload, eccetera, eccetera, boilerplate, quindi, qui, sullo slash, creiamo questo oggetto, mettiamo in text il valore, quando lui fa la render, basata sulla request, sceglie questa vista, e gli passa il contesto, la vista prende il text, lo mette qui, lo include qui, e mi dà la pagina completa, poi c'è questo pezzettino, che mi fa solo quella parte, di scegliere un genere, in automatico, metterlo nel context, al posto del testo di prima, però, questa volta, non fa la, non fa la return, di tutta la pagina, ma solo di button.html, c'è solo di questo pezzettino, mettendoci dentro il text, che dovrebbe essere uno dei generi musicali, che lui ha scelto, tra l'altro, nel pulsante, quindi, qui, c'è un po' di htmx, cioè, quando viene cliccato, normalmente non farebbe nulla, mi viene da dire, quindi, se, ad esempio, lo lasciamo così, devo fare un reload, no, sì, perché secondo me, altrimenti non mi, lui normalmente non farebbe nulla, però, se io gli dico di fare il post, a questo indirizzo, e di swappare, come dire, questo swap è applicato a questo elemento, e c'è scritto out html, vuol dire che questa roba viene restituita, da quello che viene giù dal server, quindi, qui, ci sarà anche una clear, no, li vedo tutti, ok, quindi, quando io faccio un reload, in questo caso c'è lo script, e clicco, vedo, soul, vedo, ancora soul, heavy metal, jazz, a volte magari prende lo stesso, e qui sotto vedo tutta, l'ultima chiamata, random gener, e vedo che cosa arriva, cosa arriva e cosa va, cioè, è stata inviata una http post, ci sono anche, interessanti questi attributi, che vengono sparati su, da htmx, current tool, request, quindi, io lato server, potrei dire, ok, da questi potrei riconoscere, che ad esempio, è una richiesta che viene da htmx, e allora dico, ok, non ti do un json, ti devo dare html, anche se, dovrei, fare un, questa request, non so se è completa, ma, url and coded, ok, dovrei recuperare, magari, dirgli, dammi l'html, potrei scegliere, è meglio scegliere da quel lato, nella post, questo è quello che viene giù, text html, e il pulsante con, il genere cambiato, infatti, vediamo che, questo cambia, di volta in volta, quindi, questo pulsante, viene rimpiazzato da un pulsante, che fa la stessa cosa, con dentro un testo diverso, se io vado, immagino, che se io, lo ispeziono, io, c'è, troppo, un po' troppo alto, c'ho la fonte, un po' troppo grandicello, e clicco, vedo, aggiornarsi, no, qui vedo, il body, ah no, però il body, perché non è tutto il body, ok, mi fa, mi sta segnando che, che questo sta cambiando, vedo cambiare class, perché me lo, me lo compatta tutte le volte, vedo cambiare, il testo, qui sarebbe, sicuramente, più ottimale, andare a sostituire, magari, il testo, da un certo punto di vista, ma di nuovo, questo tipo di approccio, mi semplifica enormemente, il fatto di, come dire, lato server, per produrre l'interfaccia, cioè sto rigenerando, un template, che riesco a incorporare, in qualcosa di più grande, ovvero la pagina completa, ma anche nel pezzettino, ho visto che nel menu, c'erano, varie cose, quindi, per dire, se io volessi fare, una cosa tipo, done, potrei restituire, potrei dirgli, boh, on, post, mettiamo un altro indirizzo, save, metterci qui, ah, c'ha un po' di funzionalità, questo editor, ovviamente, l'avranno, mi mette anche le parentesi, quindi, guarda, com'è efficiente, qui potrei dirgli, return, render, request, e prendere una cosa tipo, saved, punto, html, passo il context, anche se in questo caso, non lo uso, qui mi faccio, l'ha chiamato partial, ma lo chiamo saved, e gli dico, la roba così, i dati sono stati salvati, correttamente, non so se ci sono anche delle, delle formattazioni per fare della roba in, in verde, in giallo, ma vabbè, poco importa, qui, gli dico di fare un, un post, a cos'era, a save, ok, quindi dico, farmi un reload, se dico click, non fa nulla, è aggiornato, post, slash, save, l'ho chiamato così, o l'ho chiamato in un, si, on post, http post, come mai non funziona, response, quello sbagliato, saved, sbagliato qualcosa di, return, render request, ah, context non c'è, maledetto, beh, tanto potrò farlo anche così, no, immagino, reload, code, a meno che non, non mi ricarica, il server non venga ricaricato, no, era tutto lì, gli passavo un context, ma non l'ho mai dichiarato, perché non, non mi serve, quindi, gli passavo una variabile undefined, e quindi ovviamente scoppiava sul server, lui mi scrive, i dati sono salvati correttamente, chiaramente, perdo il, quindi qui dovrei vederlo, ok, corretto, mi perdo ovviamente il pulsante, però, io potrei anche dirgli di fare un back, boh, adesso io sto sperimentando, non è che, questa non è un'applicazione, per nulla significativa, boh, ripristina, ad esempio sul link, a back è sul link, ad esempio sul link, se clicco, io farei una navigazione, se metto un normale href, potrei dirgli, di fare, in questo caso, una post, anche in questo caso, vediamo, hx post, button, html, si chiama, no, come si chiamava, random gener, dovrei fare l'endpoint, ovviamente, magari un edit, non lo so, o qualcosa del genere, edit, qui ci scrivo button, post, button, lì poi sarebbe una get, sarebbe più corretto fare, mettiamolo come get, get, qui potrei dirgli, get, cioè, devo farlo con ajax, quindi siccome devo mettere, le cose in un div, e, gli potrei dare come, hx target, ok, l'outer div, outer html, si, outer div, è un po' specifico, ok, in questo modo, io mi aspetto, che cliccando, lui vada qui, non vedo il link, ah, nel senso scemo, perché non gli ho dato il, guarda anche il capo, non ho messo un testo nel link, torno indietro, una roba del genere, ok, se clicco qui, eh, ci vuole, ci vuole, se lascio sull'hrf, funzionerà anche così, boh, no, perché lui cerca di, di fare così, probabilmente dovrebbe essere così, forse, qualcosa, a parte il fatto che, visto che è un'interfaccia utente, non gli darei, un, a parte che l'html, l'outer html, in questo caso sarebbe, dovrei dirgli di salire, di un livello, però qui, dovrei guardare qualche esempio in più, però, effettivamente dovrebbe essere tutto coerente, quindi io dovrei fare, vabbè, questo non faccio un paragrafo, un div, e dirgli, torna indietro, e qui, qui si che gli metto, hx get, edit, hx target, outer html, che ricorda proprio la proprietà del dom, che fa questa roba qui, fa vedere se ho sbagliato ancora qualcosa, non funziona, non lo fa, come mai non lo fa, forse non c'è il get, forse non c'è l'outer html, ho sbagliato qualcosa, h, ah scusa, il target, no, non si chiama target, si chiama swap, ok, è tornato qui, ah, outer html, vuol dire questo, potrei dirgli parent, ecco, chiaramente, devo risalire al parent, devo risalire a qualcosa, faccio una ricerca, vado nella documentazione, e vedo cosa posso mettere, inner html, outer html, before begin, before end, non, after end, quindi qui dovrei dargli, a relativo al target attribute, quindi potrei dirgli, sul target, this, closest, css selector, questo è interessante, no, non volevo andare alla documentazione, quindi potrei dirgli, come target, potrei dirgli, di ad esempio, fare lo swap, di outer html, quindi di tutto l'elemento, però dandogli, come target, il, com'è che si indica il closest, vediamo, closest, ah, scritto proprio così, closest.tr, will target, ok, e allora io ti scrivo, ad esempio, closest, div, perché questo è un div, non ha funzionato benissimo, ah, no, è giusto, perché però, non, c'è il context vuoto, sì, devo, devo ripristinare, sto renderizzando, correttamente il pulsante, però, non sto mettendo un testo nel pulsante, quindi funziona, ma, devo, click me, again, devo, in qualche modo, vederci il, sì, lo devo anche passare, notare che, come il, il fatto di usare htmx, è l'ultimo dei miei problemi, ma, ok, sto un po' giocando, per capire un attimo, come funziona, ma, questo è il, è il concetto, quindi, qui, gli ho detto, cosa scambiare, però, lui normalmente, ovviamente, scambia, per default, lo stesso, usa lo stesso elemento, come riferimento, in questo caso, gli ho detto, guarda, devi cambiare, trovi il div più vicino, closet vuol dire, che lui va da qui, va a quello superiore, scala, finché non trova qualcosa, che matcha, poi, qui, si può mettere, anche, ovviamente, div punto, una classe, un id, si può dare l'indicazione, che si vuole, quindi, in questo caso, questo mi fa, mi fa abbastanza gioco, usando lo stesso template, con le due versioni, ci sono degli esempi, anche più carini, che possiamo caricare, il welcome, direi che, adesso abbiamo perso tutto, però, vado sul, click to edit, ad esempio, questo, questi qui, sono anche nel sito, perché mi ricordo, di averli visti, anche nel sito, di, htmx.org, però, qui, forse, è più interessante, perché abbiamo, anche un pezzettino, di server, e, riusciamo, come dire, ad accedere, anche a una parte, interessante, questo, da dove l'hai recuperato, ah, qua, ah, ok, c'è proprio, un dato, un oggetto del server, che viene manipolato, quindi, analisi del server, quindi il server produce, html, fondamentalmente, abbiamo, il fishname, John Do, qui c'è un oggetto, che fa da, da DTO, quindi, è un oggetto, che esiste, lato server, è globale, ovviamente, nessuna implementazione, sarà mai fatta così, però, mettiamo, che sia qualcosa, che proviene da un db, cioè, quello ci sta, quindi, questa è la home page, ed è quella, che recuperiamo, col get, da qui, quindi, gli fa render request, index.html, contact, quindi, questo diventa, il nostro contesto, e viene passato, ogni volta, la vista, e viene usato sempre lui, non, questo è il contesto, praticamente, quindi, è l'oggetto, su cui tutte le chiamate, cioè, si basano, le chiamate, più che altro, il rendering delle viste, è l'oggetto, che viene passato, dove, il motore di rendering, prende qualcosa, e lo mette, quindi, in quel caso, l'html diventa un template, html diventa qualcosa, per istruire il template, su come comportarsi, senza, javascript, da notare, che non c'è, praticamente, annetto di questo, che però, è server side, quindi, io questo, potrei farlo anche, ad esempio, anzi, potremmo anche prenderlo come esempio, e riscriverlo pure in delfig, non avrei, questa è la parte, dato server, è fatta in javascript, non potrebbe essere fatta in python, o non potrebbe essere fatta in qualunque altra cosa, sull'index, c'è, click to edit, c'è questo include contact, quindi, va a caricare questo, che, c'è già un pochino di roba, allora, questo possiamo ridurlo un po', che tanto, ecco, magari, formatato anche un po' meglio, a meno per scopi, come dire, ok, c'è un div per andare a capo, dentro c'è la label, per il campo, e, questo è visualizzazione, ok, perché non c'è, sembra un form, ma non è un form, è semplicemente un, qui c'è un click to edit, qui secondo me hanno usato un po' di bootstrap, perché vedo le classi tipiche del, contact edit, è simile, ma al posto del valore, c'è proprio l'input type, col valore che viene iniettato dentro, quindi è tutto html che gira, la prima versione è completa, poi c'è la versione visualizzazione del pezzettino, edit del pezzettino, visualizzazione, quindi, loro cosa hanno fatto, home page include contact, quindi viene giù questa roba qui, quindi c'è questa pagina, lui prende, i valori del contact, li mette sulla pagina, e poi c'è un pulsante, che cliccato, fa una get, giustamente, perché qui entriamo in edit, quindi dobbiamo navigare, virtualmente cosa faremo qui, un click, faremo il routing, per andare a prendere la pagina, quello che lui fa, è dire, chiama questo endpoint, l'html che viene restituito, non c'è scritto nient'altro, quindi per default, vuol dire che, questa get viene fatta, sul click, perché io potrei dargli, anche un'altra informazione, pressione tasto, mouse up, mouse destro, potrei dirgli, mouse move, potrei dargli, tanti altri target, tanti altri trigger, se non lo dico, è il click, se, quindi, quello che arriva, da questo, la cosa interessante, è quello che arriva, da questo, da questo elemento, dove viene messo, qui non c'è un target, perché è stato indicato, qui in alto, quindi voi potete indicare, un target di un'operazione, nel parent, e ogni punto, qui dove voi andate a fare, un get, cioè questo, fondamentalmente, se io togliessi questo, allora vediamo come funziona, click to edit, mi fa vedere questa roba, cancel, torna qui, se io questo lo togliessi, ok, sono sicuro, che il risultato, sarebbe molto diverso, perché, perché quando faccio il click, cioè tutti i default, vuol dire che, qui è il trigger, il default è il click, e quando lo clicco, lui fa la get, siccome non gli ho detto, dove mettere il risultato, lui, per default, lo sostituisce a questo elemento, quindi io cosa vedo, i dati del contatto, e poi vedo il form, al posto del button, ci sono finiti qua dentro, quindi io cosa potrei dire, potrei dire qui, ti do un target, ok, target this, anzi, non è this, ma sarebbe il parent, in questo caso, non so se funziona parent, come, no, non funziona, non gli piace, outer HTML, sostituirebbe questo, potrei dargli, un closest div, come prima, e in questo caso, probabilmente funziona, ok, funziona come prima, però la cosa che potrei fare, è dire, il target è me stesso, this, solo che se questo, lo appioppo qui in alto, e lo metto qui in alto, come era all'inizio, vuol dire, ogni azione, avrà come target, me stesso, cioè il div, che si seleziona come default, quindi, cliccando qui, e non essendoci qui il target, rimane l'ultimo target, impostato, che è stato impostato qui, ed è impostato a this, ovvero, a tutto il div, vuol dire, il button, quello è il target di default, cioè il button non ce l'ha, non sa dove buttarlo, ma qualcuno, ha già selezionato, guarda, a meno che non ci sia scritto, qualcosa di diverso, io sono l'elemento target, delle operazioni, cioè quindi ogni operazione ajax, il risultato finisce dentro, questo div, e infatti poi, quando io clicco, viene cambiato, a parte il click to edit, tutta questa parte, viene sostituita, quindi c'è questo pezzo, che viene sostituito da tutto questo, quindi funziona, funziona anche bene, class, questo è tutto stile, quindi non ci interessa, quindi quando faccio click to edit, vedo il form, quindi click to edit, vuol dire, fai una get a questo indirizzo, quindi lui va su contact edit, e quindi lui cosa fa, fa il render, della contact edit HTML, quindi pagina statica, passando i dati del contatto, contact edit è uguale, però, butta giù una form, anche qui sui pulsanti, non ci sono i target, però c'è scritto, ad esempio, form target this, quindi ogni operazione ajax, agirà sul form, per default ovviamente, poi se qui nel pulsante, io cambio, posso cambiare, però, se non dico nulla, ognuno, butterà su se stesso, se lascio quel this, vuol dire che, ogni elemento, che non ridefinisce il target, lo butterà sempre sul form, quindi vuol dire, che quando viene inviata questa form, non deve fare una post, ma deve fare una put, infatti i dati vengono aggiornati, quindi è corretto, che si faccia, cioè qui non ho un add, non ho una post, solo il put, e basta, quindi ho dei dati, li vedo, li aggiorno, quindi non inserisco nulla di nuovo, è corretto, che a livello di HTML, io abbia un'operazione di put, HTTP, scusa, quindi HTTP put, cioè qui dice, ogni volta che questa form viene inviata, non fa una post, fa una put, e quello che viene istituito, deve prendere come target, this, ovvero tutta la form, e sostituire, outer HTML, ovvero la form in sé, se metto inner, viene, la forma rimane, cambia l'interno, outer cambia questo, quindi lui dopo cosa mette giù, label e controlli, label e controlli, qui cosa c'è, il classico pulsante di submit, che non ha neanche un attributo in più, perché a parte la class, per dargli l'aspetto, diciamo, di un pulsante, che poi potremmo, metterci, primary, se lo vogliamo vedere, con uno stile diverso, adesso non so se, funziona o meno, no, non li hanno importati, ma, potremmo anche toglierli, secondo me, li ha messi, perché li ha copiati da qualcosa, ma non mi sembra che ci siano degli stili, no, vengono sempre uguali, quindi, anche questi form group, li ha usati, ma secondo me, sono, non mi sembra che vengono usati, però diciamo, che se abbiamo un booster, potremmo già usarlo direttamente, saremmo, saremmo già a posto, però, è per togliere, diciamo, tutto il superlo, tutta questa roba, ci interessa, praticamente, zero, tutto il CSS, quindi, button submit, qui, o voler, potrei metterlo anche esplicito, che questo è un submit, oppure, potrei fare un input submit, diciamo, se clicco qui, invio il form, però il form, è impostato, per essere inviato, con una put, quindi, con questo, vuol dire, che non ricarica la pagina, ma interviene, htmx, che fa la put, a questo indirizzo, e gli manda i dati del form, tecnicamente, quindi, questa roba va su, arriva al server, quello che viene restituito, server ragionerà i dati, riscaricherà, riprenderà questa vista qui, e la tornerà a buttare, sulla, sulla pagina, e quindi rivedrò, quella di prima, con i dati modificati, se invece clicco questo, che è ancora interessante, qui, scrive get, perché deve ridefinire, questa, questa azione, fa una get, su contact, vuol dire, chiama questo endpoint, cosa va a sostituire il risultato, tutta questa parte qui, perché io ho definito, come target this, e qui c'è cancel, quindi l'effetto è questo qui, mentre l'effetto del summit, è, l'invio input, di questa roba qui, che infatti lo vedo, lo vedo qua sopra, se io adesso, perché un po' grandicello, magari, mi accontento di fare un po' più piccolo, tanto si legge, si legge lo stesso, faccio anche una roba molto veloce, vado a prendere un attimo da bere, e torno subito, torno subito, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, e voilà, mi stavo, mi stavo essiccando, quindi, stavamo dicendo, ah sì, quindi, lui fa la put, vedete che, i dati comunque, arrivano qui sotto, c'è un dump, dei dati che vengono inviati, quindi, se qui ci scrivo, Mario, Bianchi, Mario Bianchi, vabbè, quello che è, mario Bianchi, chiocciola, gmail.com, faccio submit, vedo i dati, i dati sono corretti, perché è un oggetto sul server, che mi sta, cioè io scarico, cioè non tengo neanche nulla sul client, e mi scarico l'html aggiornato, che viene poi mantenuto, Mario Bianchi, Cancel, i dati rimangono gli stessi, e qui li vedo, qui vedo la mia put, vedo l'invio dei dati, adesso l'ho presa, devo bere, quindi, faccio un, faccio un cicchetto di acqua minerale, e voilà, c'è anche tanti saluti, dalla paperella del debugging, quindi, fatto, allora, quindi qui vedi i dati inviati, input, quindi sul server, come viene gestito, put, recupera, fa un data, ok, un array con la get, tira fuori i campi, aggiungo il contatto, e poi fa la render di contact, di questo qui, e a quel punto, vedo i dati, vedo i dati aggiornati, quindi rimangono aggiornati, qui li vedo sempre aggiornati, perché i dati stanno sul server, in questo caso, ecco, anche questo secondo me, è uno dei vantaggi, riuscire a non tenere, cioè, riuscire a non tenere, diciamo, non essere costretti, a tenere lato client, tutta una cache di informazioni, che comunque, restano su DB, o comunque sono serviti, anche poi, lato server, possiamo usare delle cache, se non vogliamo, tornare a recuperare dei dati da DB, però, ecco, in questo caso, lo stato, almeno parzialmente, rimane sul server, ma nulla poi ci impedisce, di mettere qualcosa, lato client, e né di scrivere, poi di mettere anche giù, degli script, ecco, da questo punto di vista, non è, non è questo il caso, mi piacerebbe riprodurre, questo esempio, lato server, da per me, che poi magari, guardiamo qualche esempio, diciamo, ce ne sarebbe molto più, di un paio d'ore, per vedere qui, però, magari poi ci torniamo sopra, ecco, mi sono tenuto il link, perché me l'ha girato, l'ho visto domenica, e c'è il blog post, sul mitico blog, di Daniele Teti, sviluppatore Delphi, e creatore di Delphi MVC Framework, che è uno dei framework, che si possono utilizzare, per fare delle applicazioni, in lato server, che si integra, abbastanza bene, con HTMX, perché supporta, un paio di template engine, uno che è stato introdotto, in Delphi da poco, e un altro, che è sviluppato ad hoc, che è relativamente nuovo, semplice, potente, carino, sono due alternative, che hanno dei comportamenti diversi, poi qui, c'è tutto l'articolo completo, che volendo, ve lo incollo in chat, se qualcuno vuole, niente, su questo canale, diciamo, lato server, siamo, portiamo, un linguaggio, un po' di nicchia, però, magari interessante, prevedere qualcosa di diverso, rispetto ai tradizionali, python, c sharp, java, e, domenica, ha messo anche su github, un, ad esempio, un quick start project, un progetto per, creare un server da zero, che usi, htmx, e delfmvc framework, lato server, per fare l'applicazione, io me lo sono, quindi, delfmvc framework, è probabilmente, uno dei framework, più, tanto compare, compare all'inizio, eccolo qua, 1365 fork, miseria, forse più scaricato, ormai, secondo me, 2000, c'è già più di una decina d'anni, 15 anni, veramente, c'è feature full, c'è di tutto, di più, quindi, questo è il framework, probabilmente, più, il progetto delf, più scaricato, c'è il libro, c'è il patreon, quindi, è abbastanza ampio, sono scuadato di avviare, l'ambiente di sviluppo, che trovate, in live, ci mette anche, un pochino, a volte a partire, perché, è un framework, per sviluppare, applicazioni web, col paradigma, mvc, quindi, usando i controller, usando, c'è questo template engine, e questo è un quick start, quindi, io ho già scaricato, da github, delfmc framework, ho già scaricato, questo template, me ne sono fatto, una copia, a parte, per, tenermi l'originale, e, avere, diciamo, una copia, su cui lavorare, ecco, diciamo così, per non deturpare, questo qui, se tutto va bene, il, il, dovrebbe partire, io mi tengo, in background, questa cosa qui, tanto poi link, li ho visti, poi li metto, anche nel, nella puntata, mi piacerebbe, riprodurre, quantomeno, parzialmente, una cosa del genere, e vedere se riesco a farlo, non ho, dimestichezza, come dire, con, unable to load, io ho cambiato posto, no, come, come ti permetti, di, allora, dove, avevo fatto una cartellina, proprio qua, per le, code, webapix, webapix, ah, forse ho rinominato il, beh, ok, ho rinominato, allora, uh, come font, è bello grandicello, ecco, allora, metto un bel, code only, perché tanto abbiamo, praticamente, solo del codice, forse potrei mettere anche più piccolino, qui ci sono variabili d'ambiente, localhost, questo è lo startup, diciamo, di un'applicazione tradizionale, il name case, lower case, quindi con lo standard rest, as is, tutte le varie, verbosity, quindi, è un'applicazione console, che parte, supporto diversi, versioni di video, fino anche antecedenti, all'ultima, e abbiamo il classico, web module, che non è altro, che un, diciamo, una tela, dove mettiamo, generalmente, dei componenti, in questo caso, è qualcosa, che viene istanziato, dall'applicazione, dove nella create, e nella destroy, andiamo, guarda, faccio anche, cambio anche il, qui c'è, tutti i middleware, ci sono tutti i vari, le varie unit, che contengono le parti, del framework, non voglio dilungarmi, troppo sul framework, perché, dovrebbe essere già pronto a partire, questa è una copia, proprio di quel template, c'è già un controller, con dentro delle funzionalità, c'è, server side view, c'è l'impostazione, del view engine, cioè, dell'interprete, dei file html, che contengono, diciamo, il, il college html, che, a cui passiamo i dati, che deve renderizzare, quello che gli diciamo noi, fondamentalmente, c'è un serializzatore, da form, urla encoded, probabilmente, per ricevere dati da un form, e va bene, c'è un middleware, per i file statici, e qui viene distrutto, l'engine, quindi, quando parte l'applicazione, inizializza questa roba, e la distrugge, c'è un helper, che, fa, probabilmente, un po' di cose, md helper, probabilmente, fatto per provare, così, a prima vista, aggiungere dei filtri, sulle viste, fare delle cose, sul template pro, ma non ci interessa, necessariamente, quindi, potremmo anche arrivare, a pulirlo di tutto, e c'è un controller, dove c'è già, una funzione, reverse string, che, rovescia una stringa, dal query string, prende un valore, e restituisce, quello rovesciato, o meglio, restituisce, una page, una pagina parziale, dove c'è, probabilmente, la stringa rovesciata, qui, non la vediamo, ma la apro, nel, in explorer, vediamola qua, ci sono gli asset, qua sotto, ok, qui è stato scaricato, in locale, già, un file, di htmx, e uno scrippettino, che non ho idea, di cosa ci sia dentro, ma immagino, te lo apro, ah, ok, è proprio vuoto, per mettere, javascript, quindi, no javascript, fondamentalmente, c'è un'immagine, di questa roba, c'è il css, con un po' di stili, 0k, quindi, come stili, direi che siamo, e c'è bootstrap, ok, è stato usato bootstrap, ma vale, per qualunque altro, e c'è, quindi, immagino, nei template, ci sarà layout, che contiene tutto, questo è molto simile, a quello che vediamo prima, c'è la barra, eccetera, poi qui c'è un block, body and block, quindi, qui c'è la creazione di una section, di una sezione, che è il corpo, e vuol dire che, nella pagina che viene renderizzata, con questo layout, tipo la index, ci sarà, praticamente, solo quella parte, esatto, estende il layout, e dice, ok, nel blocco body, ci metti dentro questa roba qui, quindi, l'unione delle due cose, fa la pagina completa, però avere le cose parziali, è interessante, perché quando andremo a stampare, la stringa rovesciata, abbiamo il pezzo, se c'è una stringa, fai vedere la stringa rovesciata, è interessante, che questo, quindi, potrebbe, se la metto vuota, potrebbe non apparire, è curioso, quindi, c'è un aggiornamento dinamico, dell'html, con questo pezzettino, che, probabilmente, viene incluso, forse, già dall'inizio, o no, c'è un, sì, c'è un reversed, quindi, lo include già dall'inizio, però, non lo fa vedere, perché, fondamentalmente, il dato è vuoto, quindi, non vedi, fondamentalmente nulla, mi viene da dire, la stringa sarà vuota, ok, se lancio, sta roba qui, che poi è quella, che ci andremo a integrare, magari, lui fa partire il server, sì, vai, c'ho il, il firewall, che mi chiede, se, faccio un, control click, ok, me lo apro direttamente qui, e c'è già il template, hello world, scrivo, ciao twitch, reverse it, ciao, ciao, ccc, ok, lui sta facendo, se vado a vedere, sul network, e magari, ok, lo sto monitorando adesso, reverse it, fa la chiamata, passando il value, e nella response, c'è proprio solo, il markup, c'è proprio solo il pezzettino, che, mi serve, perché in questo caso, tolgo, tolgo un po' di sporcizia, ci sono le varie chiamate, dove viene giù, l'html, questa roba, come la fa, immagino che qui, dove c'è reverse it, ci sia, come dire, la, la magia, ovvero, sa, nella index, ovviamente, perché è il template, reverse, string, c'è il button, c'è la get, dovremmo aprirla, magari, con un visual studio code, che forse, facciamo una roba, anche un po' più, forse appena, appena, un po' più professionale, che dite, vabbè, tanto, c'è la, si vede almeno, formattata, quindi, aprire le indefini, non mi sembra, un'ottima idea, don't trust, non mi interessa, eh, ok, quindi qui vedo la get, scusate, metto, un bel profilo web, che, secondo me, è più, aiuto, colore, magari lo mettiamo, dark modern, pure c'aveva anche il purple, con, dark eye contrast, ecco, questo è quello che si vede meglio di tutti, è una roba, get, reverse string, include, input, ah, questo include, che cosa fa, di preciso, probabilmente va a includere, magari, nella chiamata, i valori che provengono dagli input, provo a indovinare, ma non ne sono sicuro, ti permette, di aggiungere, elementi, in un agile request, ah, quindi, indicendo input, vuol dire, tutti gli input che trovi, perché usa un selector, CSS, li devi includere, nella chiamata, perché, la farà in get, perché è fatta in get, quindi lui vuol dire, che nella chiamata, quell'indirizzo, tutti gli input che trova nella pagina, collezioni i valori, collezioni i nomi dei campi, e li aggiunge nella barra di indirizzi, come query string, è interessante, comunque, è una roba abbastanza, curiosa, target, cancelletto result, vuol dire, che da qualche parte, qui c'è qualcosa, che avrà un id result, infatti qua sotto, quindi il risultato, in questo caso, finisce sempre, io pigio qui, lui include questo, passa al server, il server mi restituisce qualcosa, che poi è la versione aggiornata, di questa parte qui, che va a sostituirsi, a questo pezzo, infatti il target è result, ma da qualche parte, immagino ci sarà scritto, inner html, no, allora il default, probabilmente il default, l'inner, all'interno il default, se invece, se invece quindi, qui gli mettessi, outer html, probabilmente lo vedrei scalare, ma facciamo un'implementazione, di questo esempio qui, che è abbastanza, semplice, quindi io dovrei, aggiungere, una unit, lavoro direttamente su questo, aspetta che lo interrompo, sennò quando faccio la bid, mi dice che, allora, qui lo chiamo, lo chiamo, come era, cos'è che faceva di là, il, ok, form, ciao, buona serata, se vai, buona settimana, boh, chiamiamolo, person, person controller, che è, così, quindi, qui mettiamo, type, t, person controller, che è una classe, adesso io, secondo me, mi ricordo, un po' stretto, quei tempi, quindi, perché volevo, quantomeno fare questa provetta qua, vado un po', vado un po', vado un po' a copiare, per fare, per fare un po' prima, così, mvc path, gli diamo un path diverso, potevo anche usare l'altro, effettivamente, però, vabbè, ormai, chiamiamolo person, ci metto le stesse, gli uses, aspetta, che tanto questo, può essere che non, non mi serva più di tanto, quindi, ci lasciamo, quelle di, the fmc framework, quindi, faccio una bella index, quindi, faccio la sezione, per i metodi public, e faccio la index, ovviamente, produces, text html, sì, e quindi, poi, cosa potrei fare, potrei fare questi, ovvero, dirgli, adesso, me li prendo, giusto come, come esempio, me li butto qui, ma, giusto per, giusto come riferimento, ok, questo l'ho già fatto, contact, ok, chiamiamolo contact, contact, t, contact, controller, così sembra proprio, contact, controller, sembra proprio lui, se no, proprio quello, puoi creare direttamente, un controller, da menu other, ah, è vero che c'è, ah, vabbè, ma c'è tutto il wizardone, voglio farlo, voglio farlo a mano, a mano in lavatrice, no, allora, get contact, serve perché lui, da quello, tira fuori il, la parte parziale, che, vabbè, qui potrei in realtà, usa contact, index, potrei usare l'index, no, l'index mi tira fuori tutto, cosa dico, ci metto un view, lo chiamo così, quindi questo, va bene stringa, sì, perché html, poi dopo faccio un, un'altra get, che è l'edit, ok, e poi faccio una put, che, sembra che io stia per dire una, parolaccia, che è la, appunto, la put, poi lo vado a correggere, allora, questa è la mia put, questo, potrei chiamarla get, edit, put, non ci hanno dei nomi, un po' troppo familiari, li chiamo, view, edit, save, là, così sono, sono diversi, allora, questo ovviamente, prenderà, la put, come metodo, questo funziona con la get, questo anche, e tutti gli altri con la get, ce n'è solo uno, che, fondamentalmente, non fa, nulla di che, io, per l'html, in questione, per non saperne leggere, né scrivere, utilizzerei praticamente lo stesso, quindi, qui potrei dire, facciamo un, come dire, come dire, facciamo una cartella, contact, ok, ci lascio, ma no, perché poi alla fine, tanto questo fa da contact, contact, ok, quindi questo è tutto il menu, allora, qui svuoto tutto, ah beh, ce l'avevo già, ce l'avevo già aperto, scusate, anche così uso questo, che facciamo prima, allora, block body, extended layout, sì, tutto bello, tutto bravo, tutto bis, però, vorrei partire, esatto, da una tabula rasa, ok, e metterci dentro, quello che fondamentalmente, c'è qui in contact, quindi dirgli, guarda che, allora, questo, cioè, a me poi va bene, adesso ho netto delle classi, però mi pare che usi bootstrap, anche l'altro, quindi, nelle singole manicipali, devi specificare i vari sottolivelli, sì, sì, vado a, vado a, a copiare adesso, dal lato controller, ok, questo è il contact, quindi, io poi farei, nei partial, metterei un, chiamiamolo, contact, trattino, view, metterei un, contact, trattino, edit, basta, quindi, view, edit, sì, va bene, ok, perfetto, quindi, nel view, ci possiamo mettere, dovremmo passargli il contact, come, ah, ma no, ma è questo, alla fine, no, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, nel senso che, questo è il contact view, e qui faccio, un import, un include, non so se sul template, però si può fare un include, ma sono quasi sicuro di sì, però non sono sicuro di come si, come si faccia, però scusa, basta che guardo l'esempio, visto che, cioè, ce l'avevo qui, quindi, contact, fa, prende il layout, lo estende, e nel corpo, fa l'include, di partial, contact, view, perché è praticamente, la vista completa, che include il pezzettino, quindi qui, questo qui, ce lo mettiamo lì, e non ce lo, non, e non ci serve più, format document, diamogli una formattata, stava più bello prima, vabbè, questi due punti, è veramente, diciamo, la formattazione, lascia un po' desiderare, è quello, bisogna dirlo, get, click to edit, ok, il resto invece mi sta, abbastanza bene, questo va bene, la parte dell'edit, ok, come la facciamo, lo facciamo come, come era fatta qui, adesso non è che poi, io sto copiando in collano, non puoi dire, bello sforzo, non è che hai fatto più di, però mi serviva, diciamo, un po' agganciargli un server, che fosse, che fosse, quantomeno mio, ecco, diciamo, qui gli si può passare un contesto, reverse string, come gli viene passato, vediamo, view data, ok, usiamo view data, e gli passiamo, quelle informazioni che vediamo qua, oppure gli potremmo passare anche contact, e vedere, allora, facciamo una cosa del tipo, ma no dai, lasciamolo, non ci complichiamo troppo la vita, oppure ce la complichiamo dopo, gli passo i dati, e poi dopo, magari ci si lavora, anche perché poi, abbiamo pochissimo tempo, allora, questo va bene, questo va bene così, direi che altre cose qui, non sono da fare, perché mi pare di capire che poi, vabbè, l'index ce l'abbiamo già, e il resto, quello che conta, è questa roba qui, io qui molto, molto beceramente, gli farò un, mvc path, beh, se, comunque, io non ho bisogno qui di, io discrimino in base al path, cioè, slash contact, va bene, questo dovrebbe portarmi sempre, allo slash di, slash contact, quindi, tanto cambia il, c'è due get, scusa, è vero, devo cambiarlo per forza, quindi, ci sta, quindi la get qui, è fatta così, no, no, va fatta per forza, e quindi, qui ci devo mettere, slash view, qui ci metto, slash, eh, perché sono tutte in get, slash edit, e questo potrebbe rimanere, slash edit, oppure slash, no, diamogli gli stessi nomi, così, slash save, tanto puoi fare, tipo un redirect, allora, ci manca un po' di roba, ma perché non ho fatto l'implementazione, mi manca qualcos'altro, no, cioè mi manca la ciccia, ok, ctrl shift, quindi, io tecnicamente, devo fare, quanto segue, mettere, allora, partiamo dalla index, che probabilmente, è la cosa più semplice, perché, qui, faccio, return, non page index, ma tiro fuori, l'altra pagina, contact, avrei potuto chiamarlo, anche contact index, quindi questo va a cercarsi, l'html, nella pagina, e se lo risolve, in realtà, anche la view, è abbastanza semplice, però, c'è il problema, di dover renderizzare, nelle partial, deve andare nelle partial, e fare il rendering, di contact view, ok, questo va bene, e però, gli devo passare, anche le informazioni, allora, è molto, in maniera molto, brutale, io, prenderò spunto, da questa struttura, qui, e ne farò una, esattamente identica, che non è proprio il massimo, ma, vai, mettiamola anche da parte, via, dai, e facciamo un, contact model, punto, pass, ok, quindi, mi metto qui, questa struttura, potrei farci anche un record, adesso non mi sto a complicare la vita, ma, contact, uguale record, e ci metto, first name, string, last name, string, non mi ricordo, se il template pro è, case, sensitivo o meno, ma, questo lo impareremo, ok, e poi, perché sono un, un, contact, di tipo, tcontact, molto becero, diciamo che non è proprio il massimo, ma, initialization, contact, punto, first name, ok, contact, punto, che consta, last name, ci metto, vabbè, tra l'altro, scusa, ci diamo, per una volta che abbiamo i doppi apici, uguali, usiamoli, last name, e poi abbiamo, classico, John Do, che, non so perché, c'è questa fissa, o crap.u, che diavolo, scusa, contact, effettivamente era molto simile, a, ok, e abbiamo questa qui, e abbiamo il nostro modello, lato server, che ci sta, va, compilata questa roba, compilare, compila quindi va, no, non va perché ci manca, lato controller, ci manca, dobbiamo aggiungere questo modello, alla uses, qui sotto, ok, usiamo il nostro contact model, e a quel punto, passiamo, allora, io però voglio fare un'altra prova, vorrei provare il contatto, che detto così, siamo una cosa, sessuale, ma, allora, qui, prendo spunto da questo, eh, così, come li ha chiamati, first name, last name, li ha chiamati così, ok, posso guardarli anche qui, comunque, giustamente, first name, last name, email, sì, comunque ce li ho abbastanza, abbastanza chiari, quindi, contact, first name, body, copy, incolla, last name, email, last name, email, voilà, in realtà, poi lo stesso, lo si fa, anche nella edit, fatti poi, che si potrebbe anche andare un pochino a ottimizzare, questo diventa la contact edit, qui devo fare praticamente l'equivalente di questa post, di questa put, prendere i dati, e salvarmeli, all'interno del mio oggettino, e qui, avrei potuto farlo, mettendo, qui le, vabbè, facciamoci rimandare, in sottoforma di, post data, mettiamoli come parametri, separati, anche se, vi verrebbe da dire, che sarebbe più indicato, avere, un oggetto, perché iniziano ad essere un po' tanti, diciamo, è qui, scusa, ah ok, parane, però c'è la stringa vuota, c'è tutto, vabbè, quindi qui lo metto, first name, string, quindi li metto un po' tutti, sarebbe più interessante, e più indicato, fare il binding con l'oggetto, col record, è così, metto un parametro unico, però adesso, è giusto per, fare funzionare la cosa, e poi, la possiamo anche perfezionare, caro, mi devi, aggiornare sotto, il sync prototypes, vabbè, poco male, differisce, aiuto, ho fatto un disastro, nel voler far prima, ho fatto, più danno che utile, perché sto guardando, due cose contemporaneamente, livello schermo, e non riesco a, ecco perché anche non andava, perché c'è un punto di virgola di troppo, scritto così è veramente brutto, dai scriviamolo meglio, no, feceva più prima, comunque, non mi piace questa dichiarazione, perché andrebbe, messo tutto in un oggetto, ma, vabbè, per questa volta, lo lascio così, per il momento, quindi, qui arrivano i parametri, contact, last name, si farebbe anche molto prima, però, insomma, questo è un po' il proof of concept, per vedere, se il buon, quindi, prendo il form, lo restituisco, e devo fare, nel result, devo fare il rendering, di page, contact, view, perché comunque, devo visualizzare, i dati, oppure, potrei fare un return, se faccio, un redirect, a, vabbè, lo provo dopo, prima proviamo se va, all'altra azione, giusto per non, anche se, vabbè, un'istruzione, devo metterla lo stesso, quindi, perché farmi, farmi dei problemi particolari, non lo so, allora, ho fatto un po', troppe cose, tutte in una volta, senza testare, singolarmente, quindi, non funzionerà un tubo, devo ricordarmi, di mettere il controller, di registrarlo, quindi, qui, vado, a includere, il mio controller, nelle unit, potrei anche, togliere, col team, il controller, ma, lasciamolo, che mi fa da, allora, tcontactcontroller, così abbiamo anche questo, sarebbe stato bello, mettere nel menu, mettiamocelo, guarda, così, così sono proprio, della serie, c'è già un link, allora, contact, non conad, contact, slash contact, ok, forse, forse funzia, così clicco sul menu, e vado dritto nella pagina, forse, forse, diciamo, forse, allora, fammi cliccare, così mi apre, ctrl click, torniamo su, ce l'avevo già aperto in realtà, ma, refresh, non vedo, ah, qua, contact, server error, got first name, line one, vorrebbe, no, aspetta, 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 c'ha ragione, c'ha ragionissima, perché, per come funziona la vista, allora, qui, c'è un include, ma mancano i dati, quindi devo mettere anche qui, i dati, sì, poi qui, chiaramente, c'è modo, bisogna trovare il modo di, fattorizzare un po' questa cosa, diciamo che quando fa l'include del template, gli mancavano i dati, gli mancavano i dati del, del, del contatto, probabilmente, aspetta il comma, got first name, at line one, aspetta, template pro, cioè la sintassi però, non va bene, probabilmente, perché, com'è che funziona, contact view, non è fatto così, aspetta, aspetta, non è così la sintassi, questa è, va specificato così, perché l'ho fatto copy and colla, giustamente, il motore di template, ragione, in maniera un pochino diversa, cioè, ha una sintassi leggermente diversa, però, bravo, hai già indovinato, ok, è Visual Studio Code, conosce, template pro, last name, e chiaramente, anche di là, sarà la stessa cosa, è un template, il template engine è diverso, quindi, deve essere fatto in maniera diversa, qui, stessa cosa, è molto simile, quindi, la conversione è pressoché, immediata, però, ovviamente, lo standard è diverso, da non so cosa hanno usato, magari hanno usato un altro, e quindi, ovviamente, non può funzionare, vediamo se adesso gli piace, first name, John Do, John Do.com, gli piace, faccio un click, sto editando, sto editando, se faccio, se faccio cancel, c'è qualcosa che non va, ok, cancel, mi sa che lo sta caricando sempre in questo qui, vuol dire che ho tolto qualcosa di, o magari c'è un riferimento da cambiare, direi nella edit, target this, no, questo dovrebbe andare bene, c'è qualcuno che si sta, get, ah, perché contact, ricarica la pagina intera, anche qui, poi potrei usare un'azione unica, qui potrei, chissà se posso passargli, dei parametri in get, cioè potrei fare anche un'azione unica, a cui passo un parametro, tipo partial, che se glielo passo, tira fuori solo il pezzettino, altrimenti tira fuori, la pagina intera, cioè non sono costretto necessariamente, a usare delle azioni diverse, qui comunque l'errore, è che lui stava restituendo, da mettere dentro il pezzettino, la pagina intera, infatti mi dava, cioè mi dà anche il menu, mi dà tutto, quindi, allora proviamo a fare refresh, click to edit, cancel, adesso non torna indietro, come mai, perché non lo restituisce, no, contact view, ah scusa, no, si chiama contact, quindi è giusto, perché fa così, slash contact, qui ci sa sicuramente un errore mio, contact view, come l'ho chiamato, slash view, ah sorry, ok, giusto, è sbagliato l'indirizzo, del, sì, cioè si tratta di adeguare l'esempio, ok, adesso lo supporta, quindi, quando farò il summit, no, il summit dovrebbe già andare, perché, click to edit, submit, no, non ha funzionato, perché punta sempre a contact, giusto, quindi, è il form che non deve puntare qui, ma deve puntare a contact, slash, save, sì, gli indirizzi sono ovviamente diversi da quelli usati di là, e quindi, ci sta che, forse dovrebbe essere già corretto, esatto, perché avendo cambiato il template, adesso, non gli ho passato, di gran valori, allora, facciamo un attimo, per ripartire con i dati giusti, mi basta poi interromperlo, e rilanciarlo, run, voilà, riparte in un, in una frazione di secondo, perché la build, in delphi è molto fast, non gli arrivano molti dati, quando faccio il summit, submit, va un po' perso, secondo me non li passa, non li passa perché, bisognerebbe fare un po' di, possiamo fare anche un po' di debugging, mi sa che entrano vuoti, quindi probabilmente ho tralasciato qualche, qualche pezzettino, ah ma query string, no, non è query string, di là è query string, qui è, no va bene, click to edit, adesso ha rabbia perché, gli ho stoppato il server, secondo me entrano dentro vuoti, e non so come mai, click to edit, submit, allora nel save, arriva giù la roba vuota, nel payload i dati vanno su, form data, quindi, di là andava bene come era fatto, qua probabilmente devo pescarli dal form data, e quindi devo usare un altro, probabilmente un altro attributo, mvc, from, from, content field, e questo probabilmente, tanto ci abbiamo anche il sorgente, ci abbiamo, ci abbiamo tutto, quindi, però dovrebbe essere questo, eh proviamo, al massimo non funzionerà, tanto mica, mica lo dobbiamo vendere, quindi, allora, do un refresh, ci sono i dati, submit, no non li vedo, e quindi, ehm, devo trovare, un altro mod, ma se io li facessi, scusa, se io facessi così, un momento, vc, from, a meno che non sia il body, però questo è un altro, root node, datatype, dovrei passarli come json, ma io non voglio passarli come json, param name, questo va bene, content field, la vg path non li hai dichiarati, eh, però scusa, dovrebbero essere, eh, e ma no, qua, aspetta, qua, non sono dichiarati, mi aspetto che arrivino dal query string, aspetta, che forse qui il form ha un'altra impostazione, questo qui, si, dimmi, no, aspetta, 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 qui dove lui fa nel suo esempietto, perché abbiamo il form che ha ragione in maniera un pochino diversa, lui fa un'include input, ok, però qui fa una get, ok, mentre lui me li passa in un altro modo, perché usa la get, mentre per farlo con la post, adesso seguo il, il suggerimento del buon, eh, sono qui, devo farlo forse da qui, new, controller, crude action, ok, vai, che, mo me lo, me lo, c'è una put, si, ok, eh, però qui arriva dal json, no, vedi, from body, però qui arriva da json, mentre from content, probabilmente deve, arrivare da, da qualcos'altro, eh, qui bisogna vedere, def.mvc, framework, form data, multipart form data, issue, when using, form for instance, my controller, forse l'attributo andava bene, eh, com'era, quindi, you can put default value, very similar to def.default.mvc, from query string, qui sembrerebbe, no, però non ha detto che arrivano col form, request pass, nonchalance, oddio, è anche vero che, per come, scusate, per come lo faccio io, adesso che ci penso, potrei anche, con nonchalance, dire, sai che c'è, request, 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 se è piantato, no, c'è, request, punto, non c'è la request, come si fa a ottenere i form values, che non mi ricordo, get, get field, get client id, non mi ricordo, ah, giusto, è vero, che se la variabile è, request, grazie, form, no, field, file content fields, però, secondo me, ah, non ho aggiornato neanche, questi però, non dovrebbero, non dovrebbero puntare, quindi, qui non c'è, c'è una stringa, quindi, no, tanto posso fare anche così, tanto, alla fine che me frega, no, di fare tutto sto, cioè, sarebbe sì, cioè, se uso ovviamente, faccio un po' di binding, e sfrutto gli attributi, lascio fare il lavoro lui, chiaramente, cioè, dovrebbero esserci, adesso vado in debug, sta a vedere, se vado in debug, non me lo, non me lo fa più, sta a vedere, ci scommetto, guarda, come diceva qualcuno, se non bestemmio, guarda, allora, contact, lead to edit, submit, siamo fermi con il breakpoint, allora, qui il valore c'è, item not found, ho sbagliato il nome, key, scusa, fai un attimo, che, si, si, si arrabbia, in maniera, content fields, hash code, no, c'è la key, last name, ci sono, perché mi dice che non ci sono, items, first name, ah, c'è tutto in minuscolo, c'è un toolower, ah, ok, allora, forse per questo, che non andava neanche prima, perché c'è un toolower, impostato, impostato, all'interno del core, si, poi tutte le convenzioni, io sono, più abituato a lavorare con altri framework, però, insomma, alla fine, nel momento in cui, vediamo se stavolta, ok, stavolta l'ha preso, ok, stavolta ce l'abbiamo fatta, forse, vediamo, no, click to edit, perché mi va in blank, no, farò funzionare dopo, ah, per lo stesso motivo, ma è tutto così, in, è case sensitive, però, così lo vedo, ah, ma sono uno scemo, sono uno scemo, perché non ho copiato i dati, anche qui, se io faccio una roba, visto che lo visualizza, se io faccio una roba così, contact, forse però qui si aspetta un oggetto, e, avrei dovuto fare una classe, e, no, quello che succede, che qui, no, aspetta, facciamo una prova, di questo tipo, redire to, contact, view, così, non devo neanche, assegnargli i dati, cioè, lui ripassa qui, e dovrebbe recuperarli, a questo punto, vabbè, senza debug, mi sento, mi sento fortunato, come diceva, in google, clicco, submit, no, dati in errore, c'è il break point, ancora, no, forse non gli piace, il redirect, però, eh, non gli piace, ah, aspetta, in realtà, non mi serve un redirect, andate a vedere come ti frego, eh, giusto che, perché siamo sicuri, ho l'idea che io ti frego, adesso, stiamo sempre sperimentando, e lo stiamo un po', cioè, non è per niente ottimizzato, non è per niente, bel codice, ma, t'ho fregato, allora, marco, maglieri, submit, ok, click to edit, cancel, click to edit, submit, start boot, eh, home, i link non sono impostati, se vado in contact, lo trovo com'era, comunque, adesso, qui ovviamente, non fa un tubazzo, però, come dire, per funzionare, funziona, ecco, da questo punto di vista, c'è un po' da ottimizzare, questa parte, dato server, per, quantomeno, questo view data, fatto così come dizionario, mi piace poco, preferirei passare direttamente, ma forse si può, un oggetto qui, magari c'è la possibilità, di mettere qui un, no, o di mettere in view data, qualcosa, un, from, from ordinal, from t, ok, questo che fa, ah no, ah si, contact, eh, però c'è sempre il problema, che non è, che non penso, che gli piaccia, ops, c'è ancora il server attivo, non penso, che gli piaccia, perché, questo contact, adesso lo provo subito, provo subito, il contact view, e vediamo cosa fa, ho una piccola curiosità, vedere se funzia, no, non lo vedo passare di lì, non lo vedo passare di lì, non fa quello che probabilmente mi aspetterei, forse perché è un record, e quindi ci sta, però mi dà l'idea anche più del, dell'essere un value, perché non ti fermi qui, ah, non si ferma perché non può, adesso si ferma qui, fai vedere se ho guidata, non me lo fa vedere, ok, allora mi arrendo, no, ne 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 ne, forse non funziona, così come mi aspetterei, dovrei fare un oggetto, ovviamente, come ho ottimizzato, questo che non me lo fa vedere, debug, ok, faccio uno step, vedete, il pointer, giustamente vuole un oggetto, e niente, e niente, vuole un object, vuole un object, non gli piace, è fatto, dovrei fare un oggetto, inizializzare, non gli piace, è fatto così, ci sta, però l'idea è appunto, io non ho che ci voglia, poi più di tanto, qui, facciamo una class, qui facciamo un contact, uguale t, contact create, in finalization, facciamo un contact, punto free, tanto poi la cosa si chiude lì, e a questo punto, qui però mi aspetto, che lui, che lui, ce la faccia valorizzando, in questo modo, cioè passare un contact, effettivo, perché passare i campi distinti, è un po' una rottura, di scatole, non gli piace, non gli piace, perché non gli piace, o non gli piace, ma, c'è un po' da, c'è un po' da studiare anche, il framework, che sono, smemorato e acerbo, quindi, era per capire, se qui, mi ha, in qualche modo, inserito qualcosa, sempre nil, probabilmente lo sto usando, in maniera errata, make, chiamo questo make, ok, is type, t value, ah ma questo è il t value, no no no, allora guarda, proviamolo così, e forse così ce la fa, piacerebbe passare, possibilmente, solo l'oggetto singolo, e lui si va, a estrarre i dati, direttamente, dall'oggetto, scordo sempre, ha ottimizzato, perché sto usando, a non property, t contact first name, ah beh sì, dopo devo rispettare, ovviamente il case, però ci sta, però ci sta, quindi, se scrivo così, a questo punto, beh sì, però si arrabbia, perché poi qui, dovrei stare attento, a metterci, if contact, and if, come era quella, quella roba, esatto, if, senza i due punti, and if, così siamo tranquilli, che non faccia degli scherzi, nel caso in cui, il valore non sia, non era in lowercase, sì, o non era in uppercase, perché, proviamo, l'idea codessa, ha appena eseguito, un ride con due spettatori, ciao l'idea, sono rimasto fregato, perché volevo fartelo io, risultato il canale, volevo parlare del ride io, ma, mi sono prolungato, quindi mi hai fregato, ho visto il canale l'altro giorno, da LinkedIn, quindi, ciao, benvenuta, quindi facciamo, abbiamo raggiunto il nostro followers goal di 390, grazie a tutte e a tutti, madonna, com'è formale questo, faccio anche lo shout out, andate, se l'ho scritto giusto, eh, sì, perché non fare lo shout, ah no, l'ho fatto, dovrebbe fare qualcosa anche a livello grafico, ma niente, l'alert è andato, grazie per il ride, noi ci stiamo divertendo con HTMX, divertendo, stiamo un po', in una libreria javascript, quindi arrivate anche a tutti gli altri, o sviluppatori interessati, o amici, e sì, stavamo quasi per chiudere, ma, l'ho sentito parlare bene, io l'ho sentito parlare male, invece, però, volevo vedere se hanno ragione, oppure, oppure no, e quindi, mi è andata a visitare anche Lidia, che sviluppa, l'ho visto l'altro giorno per caso, ma stavo purtroppo lavorando, e quindi non ho potuto fare, lasciare messaggi, l'avrei fatto stasera, ma, sono rimasto fregato, ma di solito chiudo prima, quindi la prossima volta sarà, sarà quella buona, guardavo se riuscivo a vedere, no, ancora non riesco a vederlo, quindi, mi manco un pezzettino, per capire, forse ho sbagliato qualcosa, mi dice, tutti in lowercase, ma no, è in uppercase, quindi, boh, eh, niente, boh, qui devo, devo, devo controllare, cos'è che non funziona, ma, lo vedo in separata serie, ma era già un'ottimizzazione, come dire, però potrei stampare contact in sé, e vedere cosa salta fuori, perché questo almeno c'è, farà un to string o qualcosa, boh, non lo so, fammi vedere che cosa combina, se mi cresce completamente, tico, eh, ha fatto la stringa, eh, punto, quindi dovrebbe essere, dovrebbe farmi vedere qualcosa, non so come mai non me lo fa vedere, comunque, ah, sai forse perché, va con le property, cosa vogliamo scommettere, che ci vuole, una property, bootstrap, eh, questo è un template, alzo le mani, sì, bootstrap ormai, è, come dire, inizia a essere un po', ecco, un po' come il jQuery, quindi, dovrebbe essere, proviamo a vedere se questo, eh, first name, cioè, se tu vai a un CSS day, e dici bootstrap, è come dire, corda a casa dell'impiccata, no, cioè, ti prendono e ti, property, last name, last name, se poi non è questo, ho scritto tanto per nulla, no, ma è questo, perché in effetti mi dimentico sempre che, trattandosi di oggetti, diciamo, i campi sono un po', non sono mai il massimo, forse devono essere anche published, che è uno step in più del, vabbè, vediamo se questo poi mi arrendo, quindi, se c'è il warning, ma non è importante, eh, click to edit, cancel, ah, non ho cambiato il template, però, eh, voglio vedere se c'è un, first name, scritto così, click to edit, cancel, vediamo se scrive qualcosa, se sbotta, di brutto, John, quindi, ci sta, allora è giusto, ho scritto John, quindi, con RTL, è proprio, ti immaginavo, però, insomma, è quasi mezzanotte, quindi io sono, il mio peggior nemico, bootstrap, no, poveri, ah, per i suoi utilizzi, come HTMX, si fa, però è chiaro che, adesso, Tailwind, Bulma, sono un po' più, anche le ciazzure correnti di pensiero, perché mi fa vedere ancora, eh, contact, quello di prima, ah, perché forse mi sta aggiornando, la pagina intera, cioè, c'è rimasto il pezzo, no, dovrebbe farmi vedere solo, solo quel pezzo là, vabbè, poi, infatti, adesso scrive solo John, quindi adesso, sono team, fare tutto a mano, vabbè, sì, se vuoi proprio il massimo, dell'accessibilità, eccetera, CSS, a mano, e quantomeno Bulma, dai, un pochino, qualcosa, per farsi dare almeno, una piccola infrastruttura, però, l'accessibilità, è un tema, che diventerà, molto importante, anche perché sono previste multe, per quelli che, adesso non saranno, ad esempio, corsa, partecipando, no, l'ho fatto l'anno scorso, quest'anno, ho deciso di saltarlo, perché non, non riuscendo a fare tutti i giorni, dopo rimango indietro, e quindi non, non ha senso, per me non ha senso iniziarlo, l'anno scorso, ho fatto qualche esercizio, però, quest'anno, ho deciso, ho visto che qualcuno ha iniziato, ho dato un'occhiata, ma ho deciso di non, dovendo lavorare, ho troppi impegni extra live, quindi non riesco a, a farlo, come vorrei, quindi, torno, qui, ci sta, per me il primo anno, però sono un ottimo modo, per, per familiarizzare, con, anche con, soprattutto con linguaggi di scripting, mettersi a fare gli algoritmi, perché, sai dire, create application, eccetera, si fa presto, però poi, quando c'è da ordinare, delle cose, dividerle, a difficoltà crescente, diventa, la cosa diventa, ovviamente, più impegnativa, per cui, ci, ci sta come, sono un ottimo esercizio, non ho il tempo di farlo, ma, dovrei, perché comunque, non sono banali, in certi casi, anche alcune conoscenze, disconnected, ok, si è disconnesso tutto, qui, perfetto, cioè, si è disconnesso il mio, serverino, poi abbiamo sperimentato, poi, secondo me, abbiamo, come dire, visto abbastanza, quello che è, il principio di funzionamento, quantomeno, poi, se, vogliamo fare, qualcosina di più elaborato, magari, una, una prossima live, ce lo esploriamo più, più in fondo, ma, alla fine, qualcosina abbiamo visto, si tratta, chiaramente, di vedere, la, la documentazione, per, i target, poi, sul sito, ci sono tutti gli esempi, c'è, un progressive load, ci sono un po' di, di cose che potevamo caricare, nel playground, magari, adesso, vediamo, se fare una seconda live, in the future, come si suol dire, e, magari, riprenderlo, abbiamo fatto, un po' tardi, niente, mi è sfumato anche, il ride, no, mi fa piacere, alla fine, perché, di solito, a quest'ora, che, come dire, si mette a fare, un po' di, un po' di sviluppo, non ci sono, in tantissimi, quantomeno, in italiano, devo andare, un po' di, quindi, vediamo, chi c'è in giro, beh, c'è Vision, che fa, che gioca a scacchi, solo che Vision, è un po', beh, adesso, vi potrei, vi potrei portare, da una ragazza, così, questa sera, facciamo tutto, tutto al femminile, che ci sta, che però gioca, anche se non fa, però, si diverte, con, un giochino, che, vanno tutti pazzi, per questo, League of Legends, io non, gioco, gioco, a Phasma, e Party Animals, e altre cose, le schivo, quindi, mi limito, per cui, non fa programmazione, però, a quest'ora, se lo rimane solo io, ho fatto troppo tardi, comunque, va bene, ringrazio, ovviamente, l'idea del ride, per la prossima volta, approderò io, allora, mettiamo, quantomeno, una, qualcosa, per la, per la chiusura, per la chiusura, ringrazio, come sempre, tutti quelli che, passano, che ci sono sempre, quelli che, che sono nuovi, che ha fatto il ride, eccetera, direi che, molto probabilmente, ci rivediamo, martedì prossimo, per prima, non so, se riesco a fare un'altra, e quindi, vedrò, un po', ci sta, come cosa, per cui, oggi, non è venerdì, ma è martedì, quindi, buona settimana, buona programmazione, per il resto della settimana, vedremo cosa portare, però, vi lascio sempre, i riferimenti, canale, telegram, e quant'altro, ci sono solo gli aggiornamenti, quindi, non c'è chat, non ci sono, quindi, c'è, se no, messaggio a settimana, per le live, ma, comunque, sul mio profilo, trovate, eventualmente, tutti i social, se volete, dopo, anche parlare di questo, rimetto il replay anche qui, lo lascio qui su YouTube, quindi, se qualcuno vuole seguirlo dopo, e, che dire, niente, grazie di nuovo, buonanotte, che mi ha fatto tardissimo, rimanete per, per il ride, così, andiamo a salutare, interrompiamo qualcuno che gioca, così distraiamo, e poi ci, mi maledirà, visto che, mi conosce abbastanza, quantomeno, ciao Vision, ho visto che eri in, ma, stai, stai, partecipando, e giocando a scacchi, allo stesso tempo, e quindi, ci vediamo nel, nel, nel ride, grazie ancora, buona, buonanotte, buona settimana, e, alla prossima, adesso preparo, il raidino, e, alla prossima, infatti, ma non dirlo in giro, ok, non dirò nulla, ciao a tutti, alla prossima, buonanotte, ciao, alla prossima, ciao a tutti, 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 ciao a tutti,